Bene, buonasera a tutti e buonasera a tutte. Siamo qui questa sera con la Giovane Astronomia, un appuntamento che da molti anni con Veneto Night si svolge in parallelo all'attività di divulgazione che si svolge in specula a Padova con tutti i laboratori che anche in questo momento stanno andando in online. Tipicamente però, parallelamente a questo tipo di evento, abbiamo i nostri giovani ricercatori, quasi tutti dottorandi dal primo all'ultimo anno di dottorato in astronomia qui all'Università di Padova, Dipartimento di Fisica e Astronomia, che si prestano con delle presentazioni delle loro attività di ricerca all'interno della quale le persone partecipano e possono interagire alla fine facendo delle domande. È per questo motivo che abbiamo deciso di fare questo tipo di attività anche quest'anno, però su Zoom, proprio per incentivare l'interazione come se fossimo di nuovo nelle aule in cui ci siamo stati per molti anni e voi potete alla fine delle presentazioni fare tutte le domande. Le persone che si sussegueranno sono otto, quindi avremo otto presentazioni, dureranno tutte circa 20 minuti. Durante la presentazione voi avete su Zoom un bottone che a seconda della versione in inglese o in italiano si chiama Q&A, question and answer in inglese oppure in italiano DER, domande e risposte. Premendo su quel bottone potete digitare le vostre domande e chi non le digita può anche votare le domande che vede che vengono digitate. In questo modo si può, diciamo così, anche preferire prima una risposta rispetto alle altre. Con me ci saranno altri conduttori, in particolare io sono qui fino alle ore 8 con Laura Morselli e ecco, benvenuta Laura. Buonasera a tutti e ciao. Laura si preoccupa di raccogliere le domande che voi fate e poi digirerà a chi sta presentando, mentre poi dalle 8 fino alle 22 prenderà il testimone Paolo Cassata e Luca Malavolta. Allora, vi ripeto che per fare le domande le potete scrivere anche durante le presentazioni. Usate il bottone Q&A oppure DR, è vicino, è in mezzo, di fianco alla lista dei partecipanti, di fianco alla telecamera o il bottone, c'è un unico bottone che voi possiate vedere che appunto è questo, con due nuvolette di domande e risposte. Se preferite fare la domanda di persona, noi possiamo aprire il microfono, quindi chiaramente andrete su YouTube e accettate il fatto che andate su YouTube a fare la vostra domanda e per farlo, per farci capire che volete farla a voce, prima della domanda scrivete tra parentesi voce. Noi capiremo subito che quella domanda non la gireremo noi, ma daremo a voi il tempo di farla, chiaramente vi chiamiamo con i nomi e cognome che vediamo scritto sulla lista dei partecipanti. Ok? Bene, allora non indugio e passiamo al primo speaker della serata, si chiama Giovanni Munaretto, lui ci parlerà dell'esplorazione di Mercurio è un dottorando ormai quasi al termine, ciao Giovanni, è quasi al termine del suo ciclo di dottorato perché è al terzo anno, quindi quest'anno sarà l'anno della sua presentazione finale e lui si occupa di planetologia e ama molti cani, la montagna e la natura. Quindi lascio la parola a te Giovanni, apriti il microfono e ciao e è tutto per te. Ok, ora vi condividerò il mio schermo così potete vedere la presentazione. Ok, dovreste vedere la presentazione. Sì, benissimo. Ok. Buonasera a tutti, io sono Giovanni Munaretto, come vi ha già detto Gabriele, sono un dottorando al terzo anno di astronomia e mi occupo di planetologia, in particolare analizzo processi che avvengono sulle superfici dei pianeti Marte e Mercurio. Questa sera vi farò una presentazione sull'esplorazione di Mercurio e in particolare vedremo le principali scoperte scientifiche che sono state effettuate negli ultimi anni dalle missioni di Messenger e Bepi Colombo e alcuni animi ancora irrisolti che stiamo studiando. Quindi inizialmente vedremo degli aspetti generali su Mercurio, quindi cose molto introduttive e dopodiché passeremo subito alle prime esplorazioni di questo pianeta tramite la missione Mariner 10. Vedremo poi il suo proseguimento con la missione Messenger e la futura missione Bepi Colombo. Mercurio è il pianeta che orbita più vicino al Sole, a una distanza di 0,38 unità astronomiche in particolare, la Terra per fare un confronto è a un'unità astronomica, è un raggio molto più piccolo della Terra, è quasi un terzo in termini di dimensioni, ha una massa ancora molto più piccola che ammonta circa il 5% della massa della Terra, ma ha una densità in realtà comparabile a quella della Terra che è un po' inaspettata per le sue dimensioni e questo fece pensare ancora inizialmente durante quando si iniziò a studiare Mercurio che fosse un pianeta fatto praticamente di ferro e infatti all'inizio degli studi su Mercurio venne chiamato The Iron Planet, il pianeta di ferro. Dal punto di vista termico, Mercurio è un pianeta che ha molti, diciamo, contrasti, nel senso che possiamo raggiungere i 400 gradi all'equatore durante il giorno di Mercurio, 73 gradi invece durante la notte, mentre ai poli la temperatura non supera mai i meno 90 gradi centigradi, quindi vedete che ha un ambiente molto estremo. Le prime esplorazioni di Mercurio sono state effettuate con la sonda Mariner 10. Lanciata nel 1973, questa missione prevedeva inizialmente un flyby di Venere e un flyby di Mercurio. Un flyby vuol dire è una manovra orbitale per la quale si passa molto vicino a un pianeta senza orbitarli attorno per guadagnare una certa velocità che ci permette di andare a visitare magari altri pianeti. Tuttavia, fu grazie al matematico, astronomo, astrofisico italiano, anzi padovano, Giuseppe Colombo, che vedete in questa immagine, che si accorse è che sfruttando la risonanza 3 a 2 di Mercurio, ovvero il fatto che ogni tre rotazioni del pianeta intorno al suo asse corrispondono due rotazioni attorno all'orbita attorno al Sole, grazie a questa proprietà dell'orbita di Mercurio fu possibile effettuare tre flyby, quindi tre passaggi ravvicinati vicino alla superficie del pianeta al costo, in termini di carburante, di uno solo. Quindi, grazie alla sua genialità, ecco, questa missione, la Mariner 10, poter acquisire il triplo dei dati rispetto a quanto, diciamo, ci si potesse aspettare all'inizio. Questa missione scoprì che Mercurio possiede un campo magnetico relativamente forte. Se compariamo Mercurio, per esempio, a Marte, Marte è un campo magnetico molto più piccolo, anche la Luna ha un campo magnetico estremamente più piccolo di quello di Mercurio. e questo aspetto è molto importante perché un campo magnetico solitamente, per esempio, è così nella Terra, è generato quando l'interno del pianeta è fatto di un metallo fluido. Oltre a questo, la missione Mariner scoprì una tenue atmosfera fatta principalmente di elio e fornì le prime immagini del pianeta che potete vedere qui sulla destra del mio schermo. Dopo la Mariner ci furono molte diciamo domande sulla sulla natura di Mercurio. La Mariner portò dei dati ma lasciò anche tante questioni irrisolte. Ed è per questo che nel 2004 venne lanciata la missione Messenger che non fece solamente dei flyby come quelli della Mariner ma fu proprio orbitò diversi anni attorno a Mercurio quindi acquisì una quantità di dati veramente enorme. Grazie a questa missione fu possibile effettuare una mappatura completa di questo pianeta con immagini ad altissime risoluzioni che aiutarono i geologi a scoprire moltissime cose che adesso vedremo ma soprattutto confermò la presenza di ghiaccio d'acqua sulle superfici del pianeta. Infatti ancora prima di questa missione Mercurio venne osservato diverse volte con dei radiotelescopi per esempio anche col radar di Arecibo che purtroppo verrà smantellato e quello che gli astronomi vedevano erano dei punti delle zone sulla superficie di Mercurio dove ottenevano delle forti riflessioni da parte del pianeta che qui vedete in giallo non in rosso ma in giallo all'epoca si quindi speculò che questo potesse essere del ghiaccio perché era del comportamento che ci si aspettava effettivamente dal ghiaccio però comunque il pianeta più vicino al sole la temperatura insomma è stato sempre un po' tutto così in sospeso finché la missione Messenger passò proprio sopra queste zone e notò che alcune di queste proprio dove c'erano queste zone che erano state identificate con i radiocelescopi erano permanentemente in ombra quindi una temperatura estremamente bassa dove effettivamente il ghiaccio poteva sopravvivere diciamo e non si limitò solo a questo ma appunto ci furono anche delle immagini dirette del ghiaccio di Mercurio in queste zone permanentemente in ombra oltre a questo confermò la rilevazione fatta dalla Mariner del campo magnetico ma andò anche più a fondo nell'analisi perché pote dimostrare che il campo magnetico di Mercurio è un campo magnetico dipolare simile diciamo a quello della Terra ma spostato rispetto all'asse di rotazione di Mercurio e anche questo diciamo ha delle implicazioni perché ci mostra che Mercurio ha un grosso diciamo un grande una grande parte centrale metallica oltre a quello a questo però è stata scoperta anche un'inaspettata quantità di composti volatili cioè dei composti che normalmente ad alte temperature evaporerebbero dalla superficie per esempio proprio come farebbe il ghiaccio a queste temperature questi non erano previsti dei modelli che spiegano la formazione dei pianeti quindi diciamo la loro natura è ancora perché ci siano su Mercurio è ancora diciamo oggetto di dibattito scientifico invece questo 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 grande quantità di ferro che ci aspettava ci si aspettava non è stata rilevata sulla superficie in modo diretto e che questa è ancora questa questione non è ancora stata ben risolta e vedremo magari in futuro ma vedrà lì so oltre a queste scoperte la missione messenger individuò delle strutture tettoniche sulla superficie di Mercurio in particolare quelle che sono delle delle faglie la le faglie la la dinamica di queste strutture non è stata ancora pienamente compresa ma si pensa che queste siano generate dalla lenta contrazione nel tempo del pianeta e anche dall'influenza che ha il sole l'influenza mareale che ha il sole sul pianeta anche se è ancora diciamo un topic di ricerca attivo infine sempre grazie alle immagini e ad altre risoluzioni della missione messenger è stato possibile studiare il vulcanesimo di Mercurio anche Mercurio ha un aspetto vulcanico l'immagine è stato possibile identificare quelle che vengono chiamate delle pianure vulcaniche che vedete qui colorate in queste immagini in basso a sinistra in beige dove e qui vedete per esempio un esempio indicato della freccia gialla di zone che sono state ricoperte da colate laviche di lava molto liquida quindi potete pensare proprio dei fiumi di lava che scorrono e queste pianure vulcaniche si pensa siano state formate quando Mercurio nelle prime fasi iniziali della formazione di Mercurio questa attività poi si dice effusiva sarebbe poi terminata per lasciare spazio delle piccole eruzioni localizzate da delle bocche vulcaniche come queste che vedete in alto a destra sparse in giro per il pianeta la missione messenger appunto ci ha dato un sacco di dati che vengono ancora utilizzati oggi sono la base per tutti gli studi che vengono fatti su Mercurio ma oltre a questo ci ha lasciato anche con tante domande ed è per questo che è stata lanciata nel 2018 e arriverà al 2025 la missione Pepe Colombo proprio in onore dell'astronomo padovano Giuseppe Colombo questa missione è una missione congiunta tra ESA che è l'agenzia spaziale europea e JAXA che è l'agenzia spaziale giapponese e prevede due strumenti rilascerà due strumenti uno strumento che è quello giapponese che qui vedete in verde che è il Mercury Magnetospheric Orbiter MMO che orbiterà attorno a Mercurio con quest'orbita ellittica quindi avrà una parte dell'orbita in cui sarà molto vicino a Mercurio e poi lontana e questo servirà principalmente per lo studio del campo magnetico e della radiazione di Mercurio sia vicino al pianeta che più distante poi c'è un altro strumento che è il Mercury Planetary Orbiter o MPO che invece orbiterà attorno a Mercurio come hanno fatto le Messenger e diciamo opererà un mapping globale del pianeta diamo un attimo in dettaglio cosa farà questa missione per Piccolomb innanzitutto ci permetterà di capire in dettaglio qual è l'evoluzione di un pianeta che orbita molto vicino alla sua stella o si può un pianeta e non Mercurio perché appunto quello che si scoprirà per quanto riguarda Mercurio sarà generalizzabile anche a pianeti che orbita attorno ad altre stelle pianeti rocciosi e studierà sempre in dettaglio il campo magnetico la magnetosfera e l'esosfera di Mercurio in particolare il campo magnetico è molto importante perché ci fa capire anche molto meglio la struttura interna effettuerà dei test della teoria della relatività generale di Einstein e studierà in dettaglio la struttura appunto interna la composizione e la geologia di questo pianeta in particolare qui a Padova siamo coinvolti nello strumento Symbiosis che vedete qui il cui responsabile è Gabriele Cremonese dell'Osservatorio Astronomico di Padova questo strumento unisce in realtà altri tre strumenti che vedete che ora vi spiegherò quindi abbiamo questo qui azzurro indicato dal cerchio azzurro che si chiama Biki ed è uno spettrometro cioè ottiene degli spettri della superficie dai quali si può capire qual è la composizione i materiali che vanno a comporre la superficie cosa che al momento tramite la messenger non si è potuta ottenere perché lo strumento lo spettrometro a bordo della messenger non ha funzionato come dovuto dopodiché in mezzo a questi strumenti abbiamo la stereocamera la stereocamera praticamente osserverà la stessa zona di Mercurio sotto due prospettive diverse si utilizzerà questa informazione parallattica per ricostruire in 3D l'intera superficie del pianeta con una risoluzione di 120 metri quindi otterremo una mappa topografica globale di Mercurio a una risoluzione estremamente alta che sarà fondamentale per l'analisi geologica del pianeta infine avremo una fotocamera ad altissima risoluzione alta risoluzione e questo ci aiuterà a studiare la geologia della superficie e a identificare e mappare tutte le strutture con una risoluzione inferiore ai 12 metri cosa vuol dire una risoluzione inferiore ai 12 metri vuol dire che potremmo vedere effettivamente oggetti che hanno delle dimensioni attorno ai 20-30 metri e queste immagini sono quelle anche più alte ottenute dalla Messenger quindi abbiamo una risoluzione comparabile a quella della Messenger in certi casi più bassa ma in molti casi più alta su tutto il pianeta e in 3D e quindi è uno strumento veramente molto importante ma con questo strumento vogliamo provare a rispondere a un'ultima domanda di cui ancora non vi ho parlato di Mercurio che è forse anche una delle più affascinanti di tutto il pianeta in particolare dalle immagini a colori della della sonda Messenger si scoprirono delle features abbastanza delle strutture abbastanza strane sulla superficie come quelle che vedete in questa in questa slide in particolare Mercurio è un po' cosparso di queste diciamo macchie che qui vedete blu ma questi colori sono diciamo non sono quelli che vedrebbe effettivamente l'occhio umano e queste si trovano si chiamano hollows gli hollows si trovano in sono delle cavità irregolari che hanno delle proprietà riflettenti particolari hanno anche un materiale molto diverso dal resto della superficie ed è per questo che appaiono di questo colore strano rispetto alla superficie che si trovano spesso all'interno di crateri e sulle superfici di Mercurio si trovano in zone per esempio dove avevano delle scarpate dove avevano delle pendenze sono ma anche su zone piatte sono un po' diciamo dappertutto la loro origine è ancora abbastanza misteriosa nel senso che non si ha ancora non si capisce ancora come si formino c'è anche la possibilità che si stiano formando proprio adesso quindi questo è una cosa che ancora non sappiamo quello che si pensa che siano il risultato di un processo diciamo di devolatizzazione cioè che ci sia un composto volatile quindi simile a un gas che uscendo in modo vigoroso dalla superficie lascia dietro un buco che poi appare così ma tutto questo è ancora qualcosa di diciamo sconosciuto e che qui noi proveremo a dare una risposta quando becchi colomba arriverà sulla superficie di me con questo concludo la mia presentazione vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande spero di sapervi rispondere grazie mille Giovanni complimenti per la tua presentazione abbiamo già una prima domanda e visto che era la prima chiedo a Gregorio se ha piacere di farla direttamente a te a voce Gregorio se puoi scrivermi in chat se hai piacere di fare la tua domanda a voce intanto ripeto a tutti che possono fare le domande tramite il bottone Q&A oppure domanda risposta e se volete fare la domanda a voce prima della vostra domanda potete mettere tra parentesi voce così noi automaticamente vi diamo questa opportunità e potete anche votare le domande degli altri così noi prendiamo quelle con i più voti e ok Gregorio dice no grazie quindi leggo io la domanda Gregorio chiede quando si è formato Mercurio Mercurio si è formato all'inizio diciamo della formazione di tutti gli altri pianeti quando il sistema solare era formato dal sole con un disco di materiale che li orbitava attorno in questo disco si sono iniziati a condensare i primi pianeti insieme a Mercurio e l'età come tempo diciamo si parla di circa 5 miliardi di anni fa una stima un po' più precisa di così si fa fatica perfetto ci sono altre domande scrivete Gregorio ringrazia scrivete pure nel question and answer o domanda risposta e intanto ti faccio una domanda veloce se puoi commentare sulla figura sull'immagine di Mercurio che avevi in sottofondo nello schermo è come la vedremo ai nostri te la ricondivido sì è come la vedremo noi con i nostri occhi oppure no è un'immagine un po' particolare allora vediamo se riesco a tornare indietro magari vediamo se c'è una dove si vede bene all'inizio ok forse è questa sì allora questa immagine è uno dei vari tesori diciamo che ci è arrivato dalla missione messenger ed è un mosaico praticamente la missione messenger aveva questa camera a colori cioè osservava sotto vari filtri la superficie di Mercurio ogni filtro era centrato su una lunghezza d'onda il team poi della missione messenger ha deciso di creare una questo mosaico di immagini qui sono stati uniti anni e anni e anni di immagini in RGB assegnando al rosso al verde e al blu diverse lunghezze d'onda quindi noi non la vedremo così Mercurio con i nostri occhi ma questo ci dà comunque un'idea dovete pensare che colori diversi corrispondono a zone che hanno una composizione diversa e quindi ci dà un'idea molto bene di quanto sia comunque variegata la superficie è diversa la superficie di un pianeta come Mercurio perfetto abbiamo delle altre domande allora Simone Zattoni chiede si effettueranno test relativistici a causa della precessione anomala dell'orbita di Mercurio cioè per avere più dati riguardo ciò oppure peraltro allora devo dire che non sono proprio esperto riguardo alla parte relativistica di Mercurio però quello che si cercherà di fare è più che avere più dati è di determinare dei parametri della teoria generale con più precisione e vedere se corrispondono alle previsioni alle stime attuali o meno perfetto abbiamo un'altra domanda da parte di Andrea Chiodini chiede se lo spettrometro di Messenger non ha funzionato al momento c'è stata qualche certezza di qualsiasi tipo con qualche strumento riguardo la composizione della superficie di Mercurio sì allora lo spettrometro di Messenger diciamo non è che non abbia cioè non è proprio che ha preso dei dati i dati poi sono stati abbastanza difficili da analizzare da calibrare da utilizzare in modo scientifico e quindi ottenere poi dei risultati sì ci sono informazioni appunto sulla composizione di Mercurio e praticamente abbiamo diverse zone basaltiche abbiamo diverse zone che sono praticamente lava che nel corso del tempo si è raffreddata e come e poi abbiamo anche invece altre informazioni per quanto riguarda sempre la composizione sugli elementi proprio che 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 formano la crosta di Mercurio quindi abbiamo zone dove abbiamo più concentrazioni di alluminio oppure magnesio oppure questi elementi qua perfetto abbiamo un'altra curiosità future missioni previste per fare altri flyby oppure addirittura atterrare su Mercurio beh per il momento diciamo l'ESA ha scommesso diciamo il tutto e per tutto se così si può dire per quanto riguarda per la missione Bepi Colombo che è la missione una delle missioni più grandi che ha e è la più ambiziosa nel suo genere e per il momento diciamo per quanto mi riguarda non è ancora non si è ancora a livello di maturità per arrivare a una missione con un lander o con un rover ma probabilmente sarà qualcosa che se sarà necessario dopo la missione Bepi Colombo sarà affrontato nelle prossime decadi ok perfetto una curiosità è possibile che esistano altre forme che esistano forme di vita su Mercurio beh allora per come vita per come la conosciamo direi no nel senso che è un ambiente del tutto ostile a qualsiasi diciamo molecola biologica che noi conosciamo perché abbiamo temperature o ai 400 gradi o sotto a meno 90 e via ma soprattutto non abbiamo neanche un'atmosfera che protegge dalla radiazione del sole che tra l'altro è estremamente più violenta rispetto alla terra o rispetto anche a ambienti un po' più gentili si fa per dire come Marte per esempio quindi lo escluderei poi la scienza è piena di sorprese comunque e un se Mercurio è più vicino al sole come mai Venere è più luminoso come pianeta beh luminoso nel senso beh dobbiamo anche considerare che quando noi osserviamo da qui Venere Venere è più vicino a noi e poi dobbiamo anche considerare che riflettono la luce in maniera diversa cioè hanno un albedo diverso e quindi diciamo quello che noi percepiamo come più luminoso dipende non solamente da quanto sono vicini al sole ma anche da quanto sono vicini a noi e soprattutto da quanta luce riflettono rispetto uno rispetto all'altro quindi non so se questa è risposta alla tua domanda sì ho qualche la connessione che fa un po' di capricci c'è tempo per direi un'altra domanda e un evento Giorgio Marchetti chiede un eventuale rover potrebbe sopravvivere a quelle temperature superficiali beh allora sarebbe sicuramente un rover diciamo dotato degli ultimi sviluppi tecnologici c'è una tecnologia avanzatissima perché stiamo parlando di escursioni termiche così alte che forse potrebbe resistere per qualche per poco tempo sentite conto che l'assenza di un'atmosfera implica che appunto non ci sia che ci siano delle escursioni termiche estremamente alte che quindi danneggiano anche strumentazione e tutto ma non è solo la temperatura il problema ma anche la dose di radiazione sulla superficie che danneggia e frigge i circuiti elettrici che devono essere trattati appositamente e quindi in quell'ambiente lì è tutto veramente spinto al limite quindi probabilmente se resisterebbe con le tecnologie attuali risisterebbe per poco tempo perfetto allora direi che ti hanno ringraziato le tue risposte ti ringraziamo del tuo intervento ci sono anche altre domande se vuoi rispondere in chat e noi dobbiamo passare al prossimo speaker quindi grazie mille Giovanni grazie Giovanni ottima presentazione e Gabriele ti passo parole grazie grazie anche a te abbiamo appena finito la parola di pianeti intanto vi ringrazio perché siamo oltre in cento e diciamo che nelle aule dove di solito si faceva questa cosa in cento persone non ci si stava quindi è sicuramente un ottimo successo allora con Gaia Lacedelli adesso continuiamo a parlare di pianeti ma di pianeti extrasolari quindi andiamo in un ambito un pochettino più lontano lei è un dottorato del terzo anno come Giovanni che avete appena sentito e vi dico già che è una fan di Star Trek quindi anche per questo forse si è appassionata ai pianeti extrasolari magari durante le sue lunghe passeggiate con la testa sta lì e ci pensa e poi alla fine ha deciso di studiare quindi Gaia lascia la parola a te e con le domande potete scrivere come avete fatto in un'altra bravissimi poi cercheremo di rispondere a tambur battente a te Gaia ok vedete lo schermo mi sentite sì sì perfetto perfetto così ok sì allora come ha detto Gabriele appunto grazie per l'introduzione sono anche io come Giovanni una dottorata del terzo anno con l'università di Padova e studio gli esopianeti e quando non studio gli esopianeti mi piace stare fuori quindi anche in questo caso apprezzare il pianeta che abbiamo noi come anticipato vi parlerò della mia ricerca che in particolare si occupa di pianeti extrasolari e tanto per cominciare cos'è un pianeta extrasolare probabilmente non è noto a tutti ma è un pianeta che come potrebbe essere Giove Mercurio la Terra invece di orbitare intorno al Sole orbita intorno a una stella diversa dal Sole quindi una stella che potrebbe essere una qualunque di quelle che vedete di notte guardando il cielo e se consideriamo che il Sole è solo una dei miliardi di stelle che compongono la Via Lattea che è la nostra galassia non è diciamo azzardato pensare che una di questi miliardi di altre stelle ospiti una o più come vedremo ospiti un sistema come il nostro sistema solare e quest'idea della pluralità dei mondi in realtà risale a un passato anche molto antico se pensate il filosofo greco democrito che probabilmente è noto per la teoria dell'atomismo in realtà era anche un sostenitore appunto di questa teoria dell'infinità dei mondi e degli scrive proprio i mondi sono infiniti e sono differenti per grandezza in taluni non vi è né sole né luna in altri invece sono più grandi che nel nostro mondo e in altri ancora ci sono più soli e più lune questo pensiero poi verrà ripreso anche più avanti da ad esempio Epicuro che anche lui atomista disse anche i mondi sono infiniti tanto quelli simili a questo quanto quelli dissimili perciò non c'è nulla che possa costituire impedimento alla infinità dei mondi e diciamo che quello che mi ha colpito di queste frasi è che effettivamente pur partendo da un pensiero puramente filosofico si sono rivelate essere estremamente attreccate per quanto conosciamo noi oggi dal punto di vista scientifico appunto sulla presenza di altri mondi infatti quando De Mancrito dice in alcuni mondi non vi è né sole né luna ebbene sono stati scoperti in questi ultimi vent'anni in cui la scienza degli esopianeti ha avuto un grande sviluppo dei cosiddetti pianeti orfani o free floating planets che a differenza dei pianeti del sistema solare che orbitano intorno al sole se ne vanno a spasso per la galassia senza orbitare intorno a nessuna stella probabilmente è possibile che pianeti come questi si siano formati all'interno di un sistema che orbitava intorno alla stella e poi magari ci siano state delle interazioni all'interno di questo sistema che alla fine hanno portato il povero pianeta a essere espulso e a vagare da solo in giro per la galassia Democrito poi dice in altri mondi il sole e la luna possono essere più grandi che nel nostro mondo e anche questo si è rivelato essere vero perché oltre a aver scoperto dei pianeti che orbitano intorno a stelle simili al sole abbiamo scoperto anche che i pianeti orbitano stelle molto diverse come potrebbero essere le stelle giganti che se pensate a quanto grande è il sole rispetto alla terra ecco immaginate quant'è una gigante rossa rispetto al sole e per esempio c'è uno studio addirittura che dice che c'è un pianeta che orbita intorno ad Al-Debaran che sicuramente è una stella che molti di voi conoscono Democrito dice poi in altri mondi ci sono più soli e anche questo si è rivelato essere vero perché abbiamo scoperto che ci sono dei pianeti che orbitano stelle binarie ovvero ci sono due stelle che orbitano una intorno all'altra sono molto vicine interagiscono tra di loro gravitazionalmente e intorno a queste due stelle ci sono dei pianeti che orbitano intorno ad entrambe e quindi diciamo che quello che diceva Epicure ovvero i mondi sono infiniti tanto quelli simili a questo quanto quelli dissimili è estremamente vero perché quello che abbiamo scoperto conoscendo oggi più di 4.000 di questi pianeti extrasolari è che essi sono molto diversi sia tra di loro sia rispetto a quello che ci saremo aspettati conoscendo il nostro sistema solare per esempio ci sono pianeti grandi come Giove che orbitano vicinissimi alla propria stella tipo all'interno dell'orbita di Mercurio di cui parlava prima Giovanni oppure ci sono pianeti in cui ci sono 7 addirittura 7 pianeti all'interno dell'orbita di Mercurio quindi provate immaginare quanto sono anche essi vicini alla propria stella e così via abbiamo visto che ci sono veramente tantissimi tipi diversi di esopianeti ma per passare un po' al contributo ecco padovano diciamo che dal punto di vista astronomico abbiamo sicuramente un grande precursore che è stato Galileo Galilei il quale gli stesso dice consuma è Padova i miei 18 migliori anni e proprio da Padova Galileo puntò il canocchiale verso il cielo e scoprì ad esempio che la luna non era un corpo celeste perfetto come ci si aspettava prima ma c'erano dei crateri delle montagne e quindi non era una superficie perfetta intoccata come si pensava prima e ha scoperto le lune di Giove i quattro satelliti galileiani che orbitavano appunto intorno al pianeta e le fasi di Venere entrambi i fatti che andavano a sostenere la teoria appunto di Keplero secondo il quale la Terra non era al centro dell'universo bensì era il Sole che stava al centro e la Terra ruotava intorno e se pensiamo che siamo passati da una concezione in cui la Terra era al centro dell'universo al cui c'è il Sole diciamo non dico al centro dell'universo ma comunque con un ruolo centrale siamo passati più di 400 anni dopo alla scoperta del fatto che neanche il Sole è così particolare come credevamo perché ci sono dei pianeti che orbitano anche intorno a stelle diverse e appunto 400 anni dopo Galileo è stato scoperto il primo pianeta extrasolare intorno a una stella simile al Sole e come vi dicevo prima è un pianeta simile a Giove che però ha un periodo di 4 giorni quindi sta vicinissimo alla sua stella e vi ricordo che questa scoperta ha ricevuto anche il premio Nobel per la fisica dato ai due scopertori di questo pianeta l'anno scorso ma ora il problema è come facciamo noi a individuare questi esopianeti e di nuovo Giordano Bruno anche lui in passato aveva individuato il problema perché anche gli diceva ci sono innumerevoli soli e innumerevoli terre tutte ruotante intorno ai loro soli però noi vediamo solo i soli perché sono i corpi più grandi e luminosi e i loro pianeti rimangono invisibili perché sono più piccoli e non luminosi effettivamente questo è un grosso problema è anche il motivo per cui la scienza degli esopianeti si è sviluppata solo a partire appunto dalla metà degli anni 90 perché appunto servivano delle strumentazioni necessarie a trovare dei corpi così piccoli e poco luminosi allora ci sono varie tecniche che si usano appunto per scoprire gli esopianeti la più diciamo nota o perlomeno quella che ha scoperto più pianeti fino ad ora è la tecnica dei transiti che è abbastanza intuitiva se pensate al transito di Venere che c'è stato pochi anni fa sul sole Venere passa davanti al sole o in questo caso il pianeta extrasolare passa davanti alla sua stella e nel momento in cui ci passa davanti blocca parte appunto della luminosità che ci arriva dalla stella e quindi la luminosità della stella diminuisce per un po' finché il pianeta ci passa davanti per poi risalire quando il pianeta esce dal disco stellare e grazie appunto allo studio di questo transito che si può vedere appunto anche in questo video vedete il pianeta arriva comincia la luminosità a scendere mentre il pianeta passa davanti alla sua stella e risalire e risalire poi quando il pianeta man mano esce e grazie allo studio dei transiti noi possiamo ricavare il raggio del pianeta perché ovviamente più grande è il pianeta più luce blocca dalla stella e anche il periodo del pianeta perché ovviamente ogni volta che il pianeta passa davanti alla sua stella provoca un transito e da questo noi possiamo trovare il periodo del pianeta per quanto riguarda la seconda tecnica più molto utilizzata nel campo degli esopianeti è la tecnica delle velocità radiali che è un pochino meno intuitiva però in realtà si basa su un effetto che conosciamo tutti che è l'effetto Doppler che è quello per cui quando si avvicina un'ambulanza noi sentiamo delle frequenze più alte quindi dei suoni più acuti e quando l'ambulanza si allontana sentiamo dei suoni più gravi perché le frequenze sono più basse il principio delle velocità radiali è lo stesso perché di solito quello che si pensa è che il pianeta orbita intorno alla stella e la stella stia ferma in realtà anche la stella a sua volta orbita intorno al pianeta per così dire è ovviamente un movimento molto 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 più piccolo di quello del pianeta ma è sufficiente per cui quando la stella si avvicina a noi noi vediamo una frequenza più alta e quando si allontana vediamo una frequenza più bassa in questo caso quello che si fa effettivamente è per i più esperti andare a studiare diciamo lo spettro della stella quindi se pensate la luce proprio che si scompone nell'arcobaleno ecco l'idea dello spettro è quella nello spettro ci sono queste righe di assorbimento che vedete in nero nell'immagine le quali si spostano a frequenza più bassa e più alta man mano che la stella appunto si muove verso di noi o lontano da noi e visto che questa tecnica è legata alla gravitazione perché appunto il pianeta con la sua massa che fa muovere la stella noi con questa tecnica qui riusciamo a trovare la massa del pianeta e negli ultimi anni poi c'è un'altra tecnica che la cosiddetta immagine diretta che è diciamo uno dei pochi metodi che abbiamo per effettivamente vedere i pianeti perché se pensate le tecniche di prima sono tecniche indirette che si basano sull'osservazione della stella invece in questo caso con l'immagine diretta noi teniamo una vera e propria fotografia dei pianeti in pratica si usa uno strumento che è detto coronografo che è un disco scuro che viene messo proprio davanti alla stella quando la si osserva in modo da bloccare la luce della stella e permettere quindi di vedere la luce emanata dai pianeti e in questo time lapse di circa 6-7 anni vediamo proprio i pianeti che si muovono intorno alla stella una serie successiva di fotografie appunto prese nel corso di un lungo periodo di tempo la stella vedete al centro non si vede perché è bloccata dal coronografo però vediamo proprio i pianeti che si muovono intorno alla stella per utilizzare queste tecniche servono ovviamente strumenti sempre più all'avanguardia e per quanto riguarda i transiti la la cosa migliore che si può fare è osservarli dallo spazio anche se esistono molte telescopie anche da terra ma dallo spazio non abbiamo il problema dell'atmosfera che disturba le osservazioni e per esempio probabilmente qualcuno avrà sentito nominare Kepler un satellite che è stato smesso un paio di anni fa ma che ha scoperto veramente tantissimi nuovi esopianeti mentre adesso siamo nell'epoca di TESS che è un satellite americano e di KEOPS che è un satellite invece europeo che sono stati lanciati negli scorsi anni e che stanno adesso osservando il cielo e poi ci sono già in programma alcune missioni future in cui l'Europa e l'Italia e anche Pado in particolare sono coinvolte come per esempio lo strumento plato che verrà lanciato nel 2026 per quanto riguarda invece le velocità radiali ovviamente studiando lo spettro servono degli spettrografi e qui sono alcuni esempi degli spettrografi più all'avanguardia come lo spettrografo ARPS-Nord che si trova al telescopio nazionale Galileo che è un telescopio italiano o lo spettrografo espresso che si trova invece in Cile e vorrei farvi notare come si divertono gli astronomi a dare gli acronimi ai loro satelliti perché tutti i nomi che vedete sono appunto hanno una spiegazione come acronimo e per quanto riguarda invece l'immagine diretta abbiamo lo strumento per esempio SPHERE anch'esso collocato in Cile su cui lavora anche il gruppo di esopianeti dell'osservatorio qui di Padova e per quanto riguarda me direttamente quello che faccio appunto nella mia ricerca questo combina un po' tutte le cose di cui vi ho parlato perché quello che ho fatto io è stato prendere dei dati osservati da TESS quindi dal telescopio spaziale di cui vi parlavo prima il quale ha osservato dei transiti appunto di un nuovo sistema planetario e poi con un team di scienziati internazionale guidato appunto dal gruppo qui di Padova siamo andati a osservare le velocità radiali di questo sistema con lo spettrografo ArtsNord che è collocato al telescopio nazionale Galileo che a sua volta è collocato sulla cima del vulcano spento che si trova a La Palma nelle isole Canarie e io ho avuto l'opportunità in questa foto più da turista che da astronoma però a parte gli scherzi ho avuto l'opportunità di andare di persona appunto al telescopio nazionale Galileo per osservare appunto questo sistema e quello che abbiamo scoperto è pubblicato in una rivista e diciamo News Fresca Fresca che è stata una ricerca che è stata accettata appunto per la pubblicazione proprio questa mattina quello che abbiamo scoperto è questo sistema TOI 561 a differenza degli acronimi belli fatti per gli strumenti solitamente gli oggetti celesti hanno dei nomi molto brutti per quanto riguarda gli astronomi più che altro per la grande quantità di oggetti che ci sono che quindi vengono catalogati in modo un po' schematico in questo caso è il 561esimo oggetto osservato appunto dal satellite TESS e questo sistema è molto interessante perché se guardate il pianeta più interno ha un periodo di sole 10 ore quindi provate a immaginare quanto vecchi sareste se abitasse su quel pianeta lì quindi è un cosiddetto ultra short period planet quindi un pianeta un periodo minore di un giorno addirittura e questo è un pianeta cosiddetto super terra ovvero ha un raggio un pochino più grande della terra ma generalmente ci si aspetta una composizione rocciosa anche se in questo caso c'è stata una piccola sorpresa perché in questo caso il pianeta è un pochino più leggero del previsto e quindi diciamo si sta ora speculando sulla possibilità di una composizione un po' particolare come per esempio un nucleo composto non principalmente da ferro o la presenza per esempio di acqua sotto forma di ghiaccio ad alta pressione e gli altri tre pianeti più esterni e anche essi da notare sono tutti e tre all'interno dell'orbita di Mercurio che è di circa 88 giorni se vedete questi sono 11, 25, 77 quindi è comunque un sistema molto vicino alla propria stella e sono invece dei cosiddetti mini-nettuni ovvero sono pianeti che hanno una composizione diciamo simile a quella di Nettuno quindi una certa quantità di gas al proprio interno però sono più piccoli di Nettuno e quindi appunto vengono solitamente categorizzati come mini-nettuni e altra cosa interessante questa categoria di pianeti sia le superterre che i mini-nettuni non sono assolutamente presenti nel sistema solare se vi ricordate l'immagine di Giovanni della presentazione di prima ci sono i quattro pianeti interni che sono tutti molto piccoli e poi i quattro giganti gassosi all'esterno ma non c'è una via di mezzo tra i due invece abbiamo scoperto che queste superterre e questi mini-nettuni sono molto comuni nei sistemi esoplanetari che abbiamo studiato finora e con questo io concludo e grazie a tutti per l'attenzione se ci sono domande grazie mille Gaia interessantissima presentazione adesso ci sono già un sacco di domande quindi dovrei dare un sacco di risposte iniziamo da quella più votata che al momento è qual è il pianeta extrasolare miglior candidato alla vita? mi sentite? forse Gaia forse Gaia ha dei problemi di rete vediamo subito se riesco a bloccarle la condivisione così magari Gaia bene adesso ti rivediamo hai sentito la domanda? no scusate ho perso tutto il discorso probabilmente per problemi di connessione ok sei di nuovo con noi ok allora la domanda più votata è qual è il pianeta extrasolare miglior candidato alla vita? ok allora diciamo che intanto bisogna dire che quando si dice di andare a cercare la vita gli astronomi non vanno a cercare cività aliene star trek navi stellari o cose del genere ma si tratta di andare a cercare delle molecole dei microrganismi dei prodotti di questi microrganismi che potrebbero indicare la presenza di diciamo forme organiche sulla superficie di questi pianeti in questo caso quando si studiano gli esopianeti si definisce questo concetto di zona abitabile che è diciamo un insieme di fattori che permettono la presenza dell'acqua liquida sulla superficie appunto di questo pianeta quindi dipende dalla composizione del pianeta da quanto la sua stella irradia energia da quanto vicino lontano è questo pianeta quindi in realtà diciamo che potrebbero esserci pianeti cosiddetti abitabili anche non nelle stesse condizioni della Terra quindi magari in realtà orbitanti intorno a stelle più piccole quindi diciamo non proprio un pianeta come la Terra intorno a una stella come il Sole ecco per quello diciamo che dovremmo aspettare probabilmente le future missioni perché se pensate ovviamente più i pianeti sono vicini più facile trovarli con i transiti perché se uno deve aspettare un anno per rivedere lo stesso pianeta insomma ci vuole parecchio tempo mentre se ci vogliono sono dieci giorni ovviamente si osservano tanti transiti ci sono diciamo più di una ventina no anche di più probabilmente di pianeti diciamo cosiddetti in zona abitabile quindi ci sono vari candidati possibili a ospitare la vita anche se insomma fino adesso ovviamente non abbiamo avuto ancora nessun indizio riguardo a questo ma aspettiamo la prossima generazione di telescopi anche da Terra come l'Extremely Large Telescope che sta venendo costruito oggi in Cile per trovare appunto queste possibili tracce di vita su altri pianeti perfetto allora prossima domanda dice per quanto riguarda il movimento delle stelle nei loro fuochi questo movimento avviene per le forze gravitazionali esercitate dai corpi celesti che orbitano attorno al sole tra i quali pianeti e se sì che cosa accadrebbe ad una stella che non ha pianeti attorno a sé sì allora quello che noi andiamo a vedere è proprio lo spostamento della stella dovuto alla presenza proprio dei pianeti quindi nel caso in cui non ci siano pianeti intorno alla stella e diciamo non ci siano altre stelle intorno che magari fanno che interagiscono un po' con questa stella in quel caso non si dovrebbero vedere indizi appunto di queste velocità radiali quindi sì si tratta proprio del pianeta che gravitazionalmente attrae la stella e quindi provoca il movimento appunto della stella stessa ok quindi che cosa accadrebbe ad una stella che non ha pianeti attorno a sé se vuoi commentare semplicemente non vedremo le righe spostarsi e se ne starebbe ferma lì dov'è ok poi abbiamo una domanda sugli spettrografi la domanda è quali pigmenti si utilizzano nelle lastre per spettrografi quindi forse puoi un attimo chiarire il concetto di spettrografo in questo caso ok allora in realtà appunto noi non usiamo le non si usano più le lastre le lastre fotografiche sono state diciamo molto importanti per le prime fasi di osservazione ma adesso noi usiamo i cosiddetti CCD quindi sono dei dispositivi elettronici che appunto servono a catturare l'immagine che sono fatti principalmente di silicio e che appunto permettono di sono proprio un dispositivo diverso che viene usato al posto delle lastre fotografiche per per prendere le osservazioni astronomiche ecco più ovviamente più sofisticato è questo CCD più più riusciamo ad essere precisi e in questo caso per quanto riguarda gli spettrografi bisogna oltretutto mettere lo strumento in una condizione di estrema stabilità e per evitare contaminazioni da parte appunto proprio della terra del telescopio perché e quindi devono essere posti a temperature veramente molto basse isolati in delle camere per cui appunto solitamente non si può nemmeno accedere perché bisogna preservare ecco la stabilità di questi strumenti perfetto e un sacco di voti per la domanda qual è il pianeta extrasolare più vicino al nostro sistema diciamo che ci sono c'è un pianeta intorno a Proxima Centauri che quindi è la stella diciamo più vicina a noi e che quindi ospita anche essa un pianeta anche se comunque per vicino dobbiamo pensare che si tratta comunque di più o meno quattro anni luce forse un pochino di meno quindi la luce ci mette quattro anni andare e quattro tornare quindi comunque il concetto di vicino è relativamente diverso in astronomia per diciamo le conoscenze che abbiamo oggi noi delle distanze ok c'è un'altra domanda dice quali possono essere i possibili destini di un pianeta orfano ma allora bisogna considerare che in generale lo spazio è molto vuoto quindi a meno che c'è solitamente io direi che sono destinati a vagare per la galassia senza incontrare nessun tipo di particolare problema o potrebbero cioè diciamo che appunto incontrare un altro corpo celeste che sia una stella un asteroide una cometa non è così facile come si può pensare potrebbe esserci diciamo la possibilità che magari un pianeta venga poi catturato diciamo da un'altra stella nel caso in cui si trovi sia stato espulso magari in una massa stellare in cui le stelle sono già molto vicine fra loro e quindi magari pur essendo stato espulso da una parte a un certo punto viene catturato da un'altra stella anche se non è probabilmente la cosa più che accade più spesso ecco perfetto non ci sono altre domande per Gaia ce n'è una diciamo di servizio chiedono se queste conferenze saranno registrate se sì dove si possono trovare quindi passo la parola a Gabriele sì in questo momento siamo in diretta anche su YouTube in parallelo e al termine di questa registrazione su quello stesso canale troverete la registrazione in diretta non è possibile tornare indietro con il wind ma alla fine sarà già disponibile la registrazione di tutto sulla domanda dei pigmenti potrei rispondere che sulle lastre fotografiche ma ormai è un retaggio storico come diceva Gaia sono depositate su una gelatina in sospensione tipicamente dei bromuri di argento e queste qui ricevendo luce poi cambiano stato fisico stato chimico anzi e con un lavaggio e quindi con il lavaggio di sviluppo poi possono essere trasformati in un qualcosa di visibile bianco e nero tipicamente solo recentemente Kodaka, Fujifilm e vi dicendo avevano introdotto delle gelatine colorate e i pigmenti potevano cambiare colore quindi fare le fotografie e colore ma questa è una cosa diciamo così che non è tanto astronomica di solito si utilizzavano lastre in bianco e nero allora benissimo con questa presentazione e adesso passo la parola ad Irene Salmaso che anche lei è una dottoranda però in questo caso al primo anno ha appena cominciato il suo dottorato ed è molto appassionato della Divina Commedia questa Divina Commedia probabilmente l'ha ispirata l'ha ispirata sullo studio che lei sta cominciando ad intraprendere che è quello delle supernove e dei multi messaggeri cioè non soltanto la luce ci insegna da dove arriva l'astrofisica del nostro universo quindi Irene lascio subito la parola a te ricordo a tutti quanti che potete già fare le domande man mano che svolge la presentazione così alla fine della presentazione siamo già pronti per e ne avremo possibilità di farne di più e rispondere a molti di più a te Irene condividi pure lo schermo bene grazie Gabriele grazie a tutti per essere qui e adesso condivido lo schermo ditemi se vedete perfetto ok come diceva Gabriele io ho appena cominciato il mio dottorato quindi ho appena iniziato la mia ricerca ma questa sera cercherò di guidarvi e di spiegarvi che cosa sono le supernove e in particolare di cosa mi occupo io nel mio lavoro anzitutto dobbiamo capire che le supernove sono l'esplosione di stelle che hanno raggiunto la fine del loro ciclo evolutivo quindi come si formano le stelle partiamo proprio dall'inizio si formano da delle nubi di idrogeno idrogeno in particolare molecolare quindi due molecole due atomi di idrogeno legati insieme e queste nubi collassano sotto effetto della loro stessa gravità come vedete qui in questo disegno che ho realizzato con le mie infinitesimali doti di grafica quando si ha il collasso della nube riusciamo a generare queste stelle che raggiungono appunto una forma sferica durante il collasso aumenta anche la temperatura e quindi le stelle che si formano sono calde mentre la nube in generale è molto molto fredda con l'aumento della temperatura poi e con la contrazione raggiungiamo la temperatura sufficiente a iniziare la fusione nucleare la fusione nucleare è un processo nucleare che è praticamente il contrario di quello che avviene al giorno d'oggi nelle nostre centrali nucleari nelle centrali nucleari che ci sono sulla terra avviene la fissione nucleare che è un processo in cui si prendono atomi pesanti per esempio l'uranio e vengono divisi a formare atomi più leggeri e questo genera energia invece le stelle fanno appunto la fusione cioè prendono degli atomi leggeri come gli atomi di idrogeno che è l'elemento più leggero e li uniscono a formare un atomo più pesante come l'elio e questo processo genera un po' di energia questa energia va a contrastare la forza di gravità che vorrebbe far collassare la stella e quindi la stella resta in equilibrio quando però l'idrogeno è esaurito abbiamo un nucleo interno di atomi di elio però il bruciamento si interrompe e quindi cosa succede? Riprende il collasso perché l'autogravità ha di nuovo il comando riprendendo il collasso la temperatura aumenta ancora e si riesce a iniziare il bruciamento dell'elio e qui vedete tre atomi di elio che formano un atomo di carbonio inoltre aumenta la temperatura e quindi anche in una parte un po' più esterna può cominciare a bruciare l'idrogeno e trasformarsi in elio poi dopo il bruciamento dell'elio le stelle più piccole si fermano perché non hanno una massa sufficiente a aumentare la loro temperatura mentre quelle più massicce che sono quelle che sono di interesse per me perché sono le stelle più massicce che fanno il fenomeno di supernova col collapse ovvero col collasso del nucleo possono andare avanti e produrre elementi sempre più pesanti quindi si finisce ad avere una struttura come vedete qui come una buccia di cipolla dove ci sono gli elementi più leggeri all'esterno e mano a mano si va a elementi più pesanti per ogni bruciamento per ogni materiale che viene prodotto più l'elemento è pesante e più l'energia prodotta diminuisce e questo comporta due cose che una che il che il bruciamento dura di meno questa è la più importante e e due arriviamo fino al vero nucleo di ferro ora il ferro è l'elemento più stabile cioè per generare elementi più pesanti del ferro bisogna fornire dell'energia invece che avere energia che viene prodotta questo significa che la stella non è più in grado di generare elementi più pesanti quindi non è più in grado di contrastare la sua gravità e quindi comincia a collassare poi succedono altre due cose nel nucleo abbiamo temperature altissime e quindi fotoni molto energetici i fotoni sono particelle di luce e queste particelle di luce come c'è scritto in queste formulacce ma è la stessa cosa che si vede in questo disegno queste particelle molto energetiche riescono a rompere gli atomi questo è un atomo di elio che è legato e stabile e colpito dal fotone viene distrutto e separato nelle sue componenti protoni che hanno una carica positiva e neutroni che invece sono neutri inoltre il nucleo è anche molto denso e quindi gli elettroni liberi e i protoni liberi che per esempio possono essere stati generati dal disgregamento di atomi si uniscono a formare dei neutroni che come dicevo sono particelle neutre questo processo genera anche dei neutrini e neutrini che sono delle particelle molto piccole molto veloci e che interagiscono poco con la materia portano via ancora più energia che invece serviva a sostenere la stella quindi proprio abbiamo un collasso diretto vedete il nucleo diventa piccolino fino a diventare praticamente incomprimibile cosa vuol dire che non può essere compresso più di così non può diventare più piccolo di così il resto del materiale poi comincia a cadere anche anch'esso sopra il nucleo il nucleo però non può comprimersi quindi è rigido e fermo e il materiale che ci cade sopra rimbalza e va verso l'esterno quello che resta al centro quindi il resto del nucleo interno è una stella di neutroni o un buco nero quindi un oggetto altamente degenere è a questo punto che il materiale diventa visibile quindi abbiamo il vero fenomeno di supernova come siamo abituati a pensarlo qui vedete 1987A era una supernova esplosa appunto nel 1987 nella grande nube di Magellano che è una galassia vicina alla Via Lattea e qui vedete all'inizio che praticamente non c'era niente c'erano solo tante stelline e vedete poi quando il materiale è diventato visibile la luce di una singola esplosione di una singola stella è stata comparabile alla luce di una galassia intera e le galassie sono composte da miliardi di stelle quindi potete capire quanto quanta energia viene liberata in questo processo inoltre dallo shock che viene prodotto dal materiale appunto che rimbalza sul nucleo vengono prodotti anche elementi più pesanti del ferro come per esempio il nickel il cobalto il titanio e poi questi materiali vanno a formare vanno a tra virgolette inquinare il mezzo interstellare e poi vanno a formare nuove stelle e nuovi pianeti quindi i materiali di cui sono composti i pianeti come la Terra vengono appunto prodotti dentro le stelle oppure durante la loro esplosione questo di cui vi ho parlato finora è quello che si vede nell'ottico infatti la luce è composta da diverse lunghezze d'onda che si differenziano appunto per la loro energia abbiamo la parte dello spettro elettromagnetico più energetica che è composta dai raggi gamma dall'X dall'ultravioletto e la parte meno energetica che invece è composta da radio microonde e infrarosso e l'ottico che è quello che vediamo noi è proprio nel mezzo il radio è la parte meno energetica ma è molto interessante per le supernove perché ci fa vedere un fenomeno particolare che è l'interazione del materiale iettato con il mezzo circunstellare il mezzo circunstellare è un insieme di gas che la stella aveva espulso durante la sua vita quindi ben prima di esplodere e lì le stelle soprattutto quelle massicce hanno dei venti stellari molto forti e queste mandano il loro materiale intorno a loro e quindi diversi giorni o mesi anche dopo l'esplosione abbiamo che il materiale eiettato raggiunge questi conglomerati di gas espulso e genera uno shock che va a illuminare il cielo radio quello che resta di una supernova si chiama appunto resto di supernova ovvero la struttura del materiale che è ancora in espansione e che mano a mano si disperde sempre di più lontano dalla sorgente compatta questi che vedete sono dei resti di supernova galattici quindi che si trovano all'interno della via lattea e sono di supernova abbastanza antiche per esempio pensate la nebulosa del granchio è originata da una supernova esplosa nel 1054 e non ci sono resti di supernova molto giovani anche se per gli standard astronomici anche questi resti di supernova potrebbero essere considerati giovani ma diciamo per la vita umana non sono molto giovani perché nella nostra galassia non si vede un'esplosione di supernova da più di 400 anni quindi noi di solito ci occupiamo di supernove extra galattiche che si trovano quindi in altre galassie rispetto alla via lattea e al centro di tutti questi resti di supernova c'è appunto il resto compatto che può essere come dicevo una stella di neutroni o un buco nero non solo la luce ma passiamo anche a parlare di altri messaggeri infatti questo è il secondo argomento del nostro webinar di stasera parliamo di onde gravitazionali ne parlerete anche più in là in serata con gli altri miei colleghi che sono molto più esperti ma in linea di massima possiamo dire che le onde gravitazionali sono delle deformazioni dello spazio-tempo e lo spazio-tempo è la realtà in cui il nostro universo vive cioè le tre dimensioni dello spazio e la dimensione del tempo che generano una realtà quattro dimensionale e un po' come le onde meccaniche che si formano quando tiriamo un sasso nel lago si formano dei cerchi concentrici che sono l'energia che si propaga così quando ci sono dei movimenti non simmetrici di masse abbiamo la generazione di onde gravitazionali ci sono diversi fenomeni che producono le onde gravitazionali in particolare le supernove core collapse che sono quello di cui mi occupo io hanno due modi di generare le onde gravitazionali una parte quella più importante più energetica che viene prodotta da dal punto dai moti dal movimento del materiale che è stato espulso mentre un'altra meno energetica è dovuta invece ai neutrini che come vi dicevo si formano sia prima dell'esplosione sia anche dopo l'esplosione in particolare questo è l'unico grafico che vi mostro non spaventatevi vi voglio solo far notare in questo asse abbiamo l'energia generata e questo grafico si riferisce al materiale e invece questo ai neutrini i vari colori indicano vari modelli per varie masse di stelle ma quello che è importante è su questo asse i numerini che ci sono vedete che l'energia generata dal materiale per le onde gravitazionali è molto molto maggiore rispetto all'energia generata delle onde gravitazionali per neutrini appunto l'astrofisica multimessenger vuole mettere insieme informazioni provenienti da diversi messaggeri che in questo caso sono la luce dello spettro elettromagnetico i neutrini e le onde gravitazionali quindi abbiamo onde elettromagnetiche onde gravitazionali e particelle e questo ci permette di avere una visione più completa dei fenomeni che andiamo poi a studiare infatti possiamo avere più informazioni su come esplodono le stelle che struttura interna hanno come si formano gli elementi durante l'esplosione qual è il tipo di resto o remnant come lo chiamiamo che resta appunto dopo l'esplosione quali sono le varie proprietà dei neutrini ci sono un'infinita quantità di esperimenti che si possono fare su questo tema e qui vedete per esempio gli interferometri che misurano le onde gravitazionali Ice Cube che è una struttura che rileva i neutrini abbiamo le antenne per il radio e abbiamo questi sono i telescopi di VLT che quindi sono specializzati per l'ottico quello che faccio io più nel dettaglio si divide in più parti la prima parte è la fotometria cioè analizzare le tra virgolette foto cioè le immagini che vengono prese al telescopio questa è una vera immagine presa dai telescopi di Asiago di una supernova che sto studiando la supernova è questa qui si trova nella galassia vedete che la sua luce è anche maggiore della galassia stessa ed è comparabile a quella di queste stelline qui che però sono stelle della nostra galassia quindi sono estremamente più vicine quindi notte dopo notte si osserva questo puntino luminoso si misura la sua luminosità e la si va a mettere in un grafico in funzione del tempo qui c'è il tempo che scorre e qui abbiamo la luminosità vedete questa è la mia supernova 2020 FA nominata così con scarsa fantasia confrontata invece con 1987A che abbiamo visto prima vedete la mia supernova ha iniziato abbastanza brillante poi è scesa poi è risalita e poi è ridiscesa e a noi interessa studiare le curve di luce si chiamano questi grafici perché ci danno informazioni su gli elementi che sono prodotti nel senso che gli elementi prodotti fanno fanno sì che la durata luminosa della nostra supernova sia maggiore o minore non solo mi occupo anche della spettroscopia come diceva prima Gaia la spettroscopia si fa con gli spettrografi e si tratta di dividere la luce in tutte le sue componenti a formare l'arcobaleno questo è lo spettro di una sorgente continua come può essere una stella mentre i singoli elementi hanno uno spettro identificativo fatto a righe e i singoli elementi hanno delle righe uniche cioè è come un codice a barre ogni elemento può essere distinto dalle righe che genera nello spettro allora noi dallo spettro possiamo proprio capire quali elementi ci sono non solo possiamo anche capire quanto veloci si stanno espandendo i materiali i materiali espulsi infatti se ho una riga qualsiasi e il mio oggetto è fermo la riga sta ferma invece se l'oggetto mi viene incontro la riga si sposta verso il blu è come dicevamo prima l'effetto Doppler se invece l'oggetto si allontana la riga si sposta verso il rosso quindi cosa succede quando ho un oggetto in espansione quindi che una parte che si allontana e una parte che si avvicina avrò una riga allargata e noi misurando questa larghezza riusciamo a capire la velocità di espansione e in generale per delle supernove normali velocità anche di 10.000 km al secondo non sono poi così strane quindi immaginatevi quanto veloci si stanno espandendo questi resti qui vedete uno spettro come è preso al telescopio ancora da ridurre ancora da sistemare e qui invece vedete lo spettro estratto sempre della stessa supernova di prima e vedete qui le singole righe come appaiono in uno spettro vero questa per esempio è una riga dell'idrogeno e queste qui intorno ci sono invece delle righe dell'azoto da ultimo e mi occupo anche di ricerca di controparti ottiche cioè appunto come vi dicevo in campo multimessenger abbiamo diversi messaggeri e notifiche di questi messaggeri che vengono rilevati arrivano ci arrivano di solito tramite e-mail e noi possiamo decidere di puntare i nostri telescopi che abbiamo a disposizione per vedere se c'è qualcosa anche nello spettro elettromagnetico per esempio qui abbiamo la controparte ottica di un'onda gravitazionale quindi prima era stata ricevuta l'onda gravitazionale poi si è vista la controparte ottica questa era una kilonova di cui parlerete più in dettaglio più tardi oppure abbiamo dei neutrini che possono essere emessi da jet di galassie o dal supernove tutta una serie di fenomeni e noi andiamo a cercare la radiazione elettromagnetica per poterli collegare e quindi capire di più su questi fenomeni con questo io concludo vi ringrazio di avermi seguita e se avete domande prego sono un sacco di domande Irene complimenti per la tua presentazione allora iniziamo da quelle più votate si prevedono esplosioni di supernova visibili dalla terra in un futuro prossimo allora sì attualmente ci sono circa 40 stelle nei intorni solari comunque nella via lattea che potrebbero fare da supernova una tra tutte betelgeuse come lo volete pronunciare che l'anno scorso ha avuto una serie di cambiamenti di luminosità quindi pareva che dovesse esplodere è ancora lì ma da un momento all'altro potrebbe succedere se succedesse la supernova sarebbe visibile di giorno quindi con il sole per diversi giorni e di notte per mesi se non per anni quindi sì wow collegato a questo c'è una stima di quante supernove esplodono all'anno nell'universo allora chiaramente siamo limitati dalla potenza dei telescopi cioè noi riusciamo a osservare fino a un certo punto fino a una certa magnitudine limite si chiama quindi una certa luminosità limite e detto ciò quindi mettiamoci in un volume che noi riusciamo a a tenere sotto controllo calcolate che ogni anno vengono rilevati quindi vengono notificati qualche migliaio di oggetti transienti cioè che hanno una variazione di luminosità poi tra questi magari la maggior parte sono supernove quindi direi sì qualche migliaio di sicuro potenzialmente sono molte di più c'è un curioso sulle supernove e instabilità di coppia su questo tipo di supernova sì sono supernove particolari nel senso che la teoria dice che quel tipo di stella non dovrebbe avere una massa sufficiente a farla esplodere tuttavia o meglio non dovrebbero esplodere ma collassare direttamente in in un resto compatto senza fare il il fenomeno luminoso tuttavia i modelli sono molto molto incerti perché abbiamo degli errori molto grandi e potenzialmente potrebbero anche essere sempre visibili dipende sempre dai parametri che si usano è per questo che è anche importante usare l'astrofisica multi messenger perché così abbiamo più parametri per andare a vedere che cosa sta succedendo prossima domanda è da Edoardo ma quindi se al centro della nostra galassia si trova un buco nero super massiccio la via lattea è il residuo di supernova che ha generato il buco nero o è tutto un altro discorso allora sì è tutto un altro discorso nel senso che i buchi neri che vengono dall'esplosione di supernova hanno una massa di qualche massa solare qualche decina di masse solari mentre il buco nero è al centro della via galattea che per essere un buco nero galattico è abbastanza piccolo ha una massa di milioni di volte la massa del sole ci sono galassie poi che ce l'hanno anche di miliardi di volte la massa del sole quelli sono formati da fenomeni diversi ok allora Roberto chiede qual è la possibilità che una supernova colpisca la terra e che sia abbastanza potente da interagire con essa per esempio creando delle aurore boreali o simili ok che colpisca la terra diciamo che la vedo dura nel senso che il materiale stesso si espande ma non è che si espanda tantissimo le stelle sono abbastanza separate sono anni luce distanti e per di più insomma le stelle più vicine non dovrebbero avere fenomeni di non dovrebbero avere una massa sufficiente a esplodere come supernova nel prossimo futuro detto ciò anche una supernova distante può produrre dei raggi gamma quindi delle particelle molto intense che poi vengono che poi possono arrivare fino a noi e queste particelle possono interagire come le particelle che emette il sole con la nostra atmosfera quindi generando aurore boreali non solo possono essere anche pericolose perché uno sciame intenso di raggi gamma potenzialmente potrebbe aumentare anche rischi di malattie legate a tumori o insomma tuttavia abbiamo un'atmosfera che ci protegge quindi sicuramente siamo avvantaggiati rispetto a pianeti più più poveri come per esempio Mercurio allora il calo di luminosità nelle fasi iniziali della supernova 2020 rispetto a quella del 1987 che hai fatto vedere il cui spettro ha una crescita costante a cosa è dovuto? Allora non siamo sicuri che siano supernova dello stesso tipo infatti io ho fatto quel grafico appunto per vedere se potevano essere confrontabili o meno per quanto riguarda la mia supernova che sto studiando pensiamo che possa essere dovuto a dei fenomeni di shock quindi abbiamo lo shock all'inizio aumenta la luminosità poi diminuisce poi c'è un secondo shock in teoria adesso è andata dietro il sole quindi non possiamo osservarla quando si potrà riprendere vogliamo vedere se ci saranno degli altri shock quindi dovrebbe avere una curva di luce ondulatoria e invece 1987A non ha avuto queste ondulazioni ok chiedono se si possono avere ripercussioni sulla terra se l'esplosione è molto vicina ma direi che hai già risposto non so se vuoi aggiungere qualcosa se non avevi risposto precedentemente beh innanzitutto vi direi cioè state tranquilli la cosa sì peggiore che potrebbe succedere è che esploda proprio una supernova accanto al sole ma la vedo molto dura principalmente mi aspetto una grande attività di astronomi e astrofili che osservano questo fenomeno bene Viola chiede dato che la luce delle stelle impiega anche anni ad arrivare sulla terra è possibile che alcune stelle siano esplose ma noi lo vedremo soltanto fra molto tempo assolutamente questa è un'ottima domanda infatti vorrei precisare che sì noi diamo il nome alle supernove con l'anno di esplosione tra virgolette nel senso che quello è l'anno in cui noi le abbiamo viste ma se una supernova esplosa a 100 milioni di anni luce di distanza vuol dire che esplosa 100 milioni di anni fa e noi la stiamo vedendo solo adesso tuttavia è in pratico pensare di andare a dare il nome alle singole supernove contando gli anni indietro per cui semplicemente abbiamo deciso di chiamarle tutte con lo stesso nome per noi sono esplose in questo momento anche se non è così Simone chiede sarà Betelgeus la prossima supernova osservabile o è già esplosa non è ancora esplosa potenzialmente potrebbe essere la prossima ma come lei ci sono una quarantina di stelle simili che potrebbero esplodere da un momento all'altro Mattia chiede la vita di una stella varia dalla sua grandezza assolutamente sì c'è una prima distinzione tra massa piccola massa intermedia massa grande diciamo per massa piccola intendo stelle che hanno una massa minore di due volte la massa del sole per stelle di massa grande intendo stelle che hanno una massa maggiore di circa 10-12 volte la massa del sole quelle di massa grande bene o male fanno tutte la fine delle supernove col collapse salvo casi di hyper instability che come dicevamo prima potrebbero farle collassare direttamente le stelle invece come il sole o poco più grandi o poco più piccole come vi dicevo dopo il bruciamento dell'elio si fermano e diventano nane bianche cioè sono delle strutture sono delle stelle degeneri e emettono poi il loro materiale va a formare una nebulosa planetaria che all'occhio inesperto può sembrare simile a un resto di supernova ciò nonostante anche stelle piccole possono avere fenomeni di supernova se abbiamo per esempio una nana bianca che orbita attorno a un'altra stella e ne acquisisce del materiale e in questo caso si formano delle supernove cosiddette termonucleari o supernova e uno a che invece sono proprio un altro fenomeno che non è legato al core collapse ma più che altro alla degenerazione della materia di una nana bianca grazie allora procediamo abbiamo una domanda di Alessandro che dice non so se l'hai già detto ma come si creano gli atomi più pesanti come il piombo per esempio allora più pesanti fino al ferro si creano nelle stelle più pesanti del ferro si generano durante l'esplosione e viene liberata una quantità immensa di energia e quindi si ha l'energia sufficiente per produrre elementi più pesanti poi elementi ancora più pesanti vengono prodotti in altri fenomeni per esempio le esplosioni di chilo nove e ora non so di preciso il piombo in quale fenomeno ricada comunque devono essere fenomeni molto energetici che permettano appunto la fusione di atomi Quanti anni fa è esplosa la supernova che stai studiando allora quella supernova se non sbaglio adesso non ho ben presenti i numeri ma dovrebbe stare a circa mezzo milione di anni luce quindi mezzo milione di anni fa facciamo 200 milioni di anni fa no scusa 500 milioni di anni fa tra i 200 e i 500 milioni di anni fa mi butto con le barre di errore abbiamo una domanda molto generica e molto interessante sicuramente per tutti come ha fatto tutto l'universo a formarsi allora beh di questo probabilmente c'è gente più competente di me per spiegarlo più avanti nella serata sicuramente parlerete di cosmologia comunque la teoria più accreditata è quella del big bang ovvero di questa grande esplosione molto energetica in cui vengono formati i primi atomi principalmente idrogeno ed elio e appunto inizia la fase di espansione e inizia il tempo prima del big bang infatti non esiste il concetto di tempo perché non si non si concepisce e poi da lì si formano le galassie le stelle e via dicendo comunque vedremo esatto anche più tardi ci saranno delle altre presentazioni a riguardo magari un po' più sulla cosmologia e faccio l'ultima domanda ce ne sono delle altre in chat a cui magari puoi rispondere dopo direttamente l'ultima è di Max che chiede una supernova può scontrarsi con una nana rossa e cosa si creerebbe allora cioè la supernova intendo il materiale in espansione quindi l'onda d'urto diciamo dell'esplosione con qualsiasi cosa si scontri molto probabilmente la sposterebbe dipende quanto è vicina all'esplosione in sé ma di solito viene calciata via quindi spostata oppure potenzialmente potrebbe essere distrutta perfetto se hai ancora altre domande noi dobbiamo passare lo spiego risponderò in chat perfetto grazie mille grazie a voi passo a Gabriele grazie Irene grazie Laura un'ottima partecipazione grazie anche a tutti voi che state partecipando e ora passiamo la parola a Francesco Sinigaglia che anche lui si è iscritto al primo anno di dottorato forse la sua passione per l'art attack e quella per Google Earth non ha portato a appassionarsi di cartografia cosmica quindi adesso lui ci parlerà di come noi stiamo mappando l'universo o come lui presume di farlo durante i suoi tre anni di dottorato vai Francesco siamo tutti con te ottimo potete sentire la mia voce e vedere lo schermo sì sì benissimo benissimo allora vado bene intanto grazie Gabriele della presentazione io appunto ho appena iniziato il mio dottorato un paio di mesi fa e questa sera vi volevo parlare di questo tema forse un po' inusuale ovvero la cartografia cosmica cioè come mappiamo il nostro universo per capire un po' meglio diciamo di cosa vi parlerò stasera cerchiamo di farci alcune domande e anche di rispondere a queste domande in che senso vogliamo mappare il nostro universo vogliamo proprio costruirne una cartina geografica esattamente come diciamo nei decenni e nei secoli precedenti abbiamo siamo riusciti a costruire il planisfero terrestre una cartina geografica dell'universo è concettualmente simile ad una cartina geografica terrestre quindi una carta geografica a cui siamo abituati con una distinzione ovvero che normalmente la superficie della terra è una superficie quindi possiamo appiattire la cartina su un foglio mentre invece il nostro universo che vediamo sappiamo che lo spazio che viviamo è tridimensionale quindi anche la cartina che produrremo sarà tridimensionale il motivo per cui vogliamo fare mappe dell'universo forse risponde un po' alla domanda che è stata fatta durante la presentazione di Irene ovvero le caratteristiche geografiche tra virgolette dell'universo sono il risultato della sua nascita della sua evoluzione e della sua crescita così come la formazione delle montagne sono il risultato di vari processi di evoluzione della superficie del nostro pianeta Terra e quindi capire e comprendere le caratteristiche geografiche dell'universo ci aiuta anche a comprenderne la storia e l'ultima domanda che ci vogliamo fare un po' come introduzione è come si fanno in pratica queste mappe e queste mappe si costruiscono in due modi con osservazioni dirette del cielo che ci permettono di acquisire dei dati reali sul nostro universo e simultaneamente con delle simulazioni al computer e dei calcoli teorici che ci permettono di dare un'interpretazione ai dati che osserviamo come sapete benissimo quando in generale prendiamo in mano una cartina geografica in qualche angolo c'è sempre un segmentino con scritto scala 1a per cui vogliamo capire qual è la scala 1a che utilizziamo nella nostra mappatura dell'universo e per spiegarvelo procediamo un po' a Matrioska ovvero come i vari oggetti celesti si tra virgolette contengono un po' a vicenda partiamo dal pianeta che è un po' l'elemento base come il nostro pianeta Terra l'elemento il contenitore della Matrioska successivo è la stella e il sistema planetario quindi una stella può come ci hanno spiegato Gaia e Giovanni possono essere circondate da pianeti orbitanti oppure anche no e un insieme di stelle forma di solito un grosso insieme di stelle si parla di miliardi o insomma decine di miliardi di stelle forma una galassia che ha al suo interno anche del gas e della polvere oltre che alla materia scura negli spazi tra le varie stelle e a sua volta tante galassie ancora una volta con gas caldo e materia oscura negli spazi tra le stelle formano i cosiddetti ammassi di galassie ecco il mini segmentino che noi vediamo in un angolo della nostra mappa dell'universo corrisponde a grandezze nell'ordine degli ammassi di galassie quindi rispetto alle supernove di rene siamo due contenitori di matriosche più verso l'esterno quindi appunto scale nell'ordine degli ammassi di galassie o anche più grandi tanto per dare un'idea di quanto grande è questo segmentino teniamo conto che lo possiamo possiamo farci stare messi in fila 315 milioni di miliardi di campi da calcio in fila oppure se prendiamo l'equatore lo svolgiamo e ce ne facciamo un segmento possiamo metterlo in fila 800 mila miliardi di volte dentro questo segmentino o ancora possiamo mettere in fila 800 milioni di sistemi solari uno in filo all'altro e abbiamo il nostro segmentino della scala quindi stiamo parlando veramente della quella che viene chiamata struttura a grande scala dell'universo l'immagine che vedete sulla sinistra un'immagine tratta da una simulazione e ci dimostra un pochino come il processo di evoluzione dell'universo porta alla struttura dell'universo che osserviamo oggigiorno vedete delle zone più chiare e più gialle che sono zone in cui c'è molta materia e zone che vengono chiamate molto dense e zone più scure che sono invece zone con poca materia che vengono chiamate zone poco dense a seconda della geometria che hanno le zone dense abbiamo dato dei nomi i scienziati hanno dato dei nomi i nodi sono i cosiddetti come il nome suggerisce zone più o meno sferiche quindi palloni da calcio come forma o più palloni da rugby molte volte ci sono delle zone dense a forma di filamento altre zone a forma di piano o di lastra chiamate pareti e infine tutto ciò che rimane vuoto fantasiosamente è stato chiamato proprio vuoto cosmico per capire che cosa noi vogliamo andare a mappare dobbiamo prendere in considerazione il fatto che la materia nell'universo si divide diciamo in modo in prima approssimazione in una componente di materia barionica che anche se è un nome che fa paura adesso vi spiego cos'è e un'altra che si chiama forse è più conosciuta diciamo perlomeno il nome più conosciuto che è la materia oscura la materia barionica costituisce circa il 15% di tutta la materia del nostro universo e come dicevo anche se è un nome che fa paura non è altro che la materia con cui conviviamo tutti i giorni perché la materia di cui siamo fatti anche noi è la materia che soprattutto emette luce e di conseguenza noi possiamo vedere ricordiamoci sempre che noi possiamo vedere una cosa che vediamo per scontato ma possiamo vedere solo le cose che emettono luce e in effetti la materia oscura che invece costituisce la maggioranza della materia dell'universo ne costituisce l'85% non emette luce sappiamo che esiste perché vediamo gli effetti della sua gravità ma non emette luce e di conseguenza non possiamo osservarla in maniera così diretta la materia oscura ha una distribuzione all'interno dell'universo possiamo dire a ragnatela oppure in termini un po' più tecnici ha una struttura reticolare forma una struttura che in inglese viene chiamata cosmic web ovvero rete cosmica in cui per l'appunto i nodi sono tra loro collegati dai filamenti e dalle pareti e in mezzo diciamo dove rimangono gli spazi vuoti ci sono per l'appunto i vuoti e i barioni quindi le particelle che formano la materia barionica magari qualcuno di voi avrà sentito parlare di protoni elettroni tutte particelle che fanno parte della famiglia dei barioni tracciano la distribuzione della materia oscura e di conseguenza tracciando la distribuzione della materia oscura dalla loro osservazione possiamo anche ricostruire la mappa della materia oscura per capire un po' meglio come i barioni tracciano la distribuzione della materia oscura guardiamo l'immagine di destra che chiaramente tutti voi riconoscerete come una fotografia dell'Europa di vista di notte e quello che vediamo immediatamente è che le zone diciamo metropolitane delle grosse metropoli come vediamo chiaramente Milano Roma Napoli Berlino Parigi Madrid e insomma tutte le capitali europee sono molto illuminate mentre invece ci sono delle zone completamente buie questo significa che dove ci sono tante luci ci sono anche tante persone e il concetto nella Cosmic Web è un po' lo stesso ovvero dove ci sono tante luci emesse dai barioni ci sono anche tante persone che sono la materia oscura quindi per l'appunto osservando la materia barionica possiamo ricostruire anche la distribuzione della materia oscura tanto per darvi un'idea i barioni si trovano all'interno delle galassie e fuori dalle galassie dentro le galassie ce ne sono circa un 10% circa un 50 60% è nello spazio subito attorno alle galassie che viene chiamato mezzo circungalattico non l'ho segnato qui ma comunque diciamo è giusto attorno alla galassia e un restante 30-40% è per l'appunto quello che viene chiamato mezzo intergalattico ovvero nello spazio praticamente vuoto che c'è tra una galassia e l'altra all'interno delle galassie i barioni formano per l'appunto come ho detto prima stelle gas e polvere mentre invece nel mezzo intergalattico abbiamo praticamente solo gas non ci sono non ci sono stelle un altro concetto importante che dobbiamo tener conto se vogliamo mappare l'universo è una cosa che Irene nella presentazione di pochi minuti fa ha già menzionato ma che vi voglio spiegare in maniera un po' più approfondita e che ho voluto chiamare l'universo come macchina del tempo e per capirlo concentriamoci sul disegnino che è a metà della slide in cui a destra c'è il nostro pianeta Terra con il telescopio che rappresentano gli osservatori e più a sinistra invece vediamo due galassie a diversa distanza dalla Terra con due raggi luminosi che arrivano al telescopio bene la velocità della luce è finita sappiamo che vale più o meno a un valore di circa 300.000 km al secondo ed è uguale costante in tutto l'universo quindi cosa succede che se le due galassie in questo momento emettono luce chiaramente quella la galassia più distante la luce proveniente dalla galassia più distante ci metterà più tempo ad arrivare al nostro telescopio perché deve percorrere una distanza maggiore di quella più vicina viceversa se adesso noi andiamo al telescopio osserviamo per un minuto e magari vediamo luce la luce che ci arriva contemporaneamente da due galassie a distanze diverse ovviamente quella più lontana deve essere partita prima perché deve aver compiuto una distanza maggiore quindi questo vuol dire che sostanzialmente più è lontana la zona da cui viene la luce più indietro nella storia dell'universo possiamo andare per questo appunto l'universo come macchina del tempo per essere sicuri di aver capito bene facciamo un piccolo quiz ovvero consideriamo che ci sono Marco e Giovanni che vogliono arrivare alla specola stasera Marco è partito da Milano Giovanni da Napoli e hanno viaggiato in macchina tenendo l'audoradio spenta quindi diciamo le ultime notizie di cui sono a corrente sono quelle che hanno visto il telegiornale prima di partire da casa e la domanda è chi ha le notizie più vecchie Marco, Giovanni oppure nessuno dei due perché vengono da regioni in zona rossa e quindi non sono potuti venire a parte gli scherzi ovviamente la risposta corretta è Giovanni perché deve essere partito prima da casa per poter arrivare alla specola contemporaneamente a Marco prima di andare avanti facciamo un brevissimo check up abbiamo detto fino adesso che vogliamo mappare l'universo sapendo che osserviamo solo la radiazione emessa dai barioni non osserviamo niente proveniente da materia oscura i barioni li troviamo nelle galassie nel mezzo intergalattico e si concentrano nelle zone più popolate della cosmic web e inoltre più lontano è il luogo da cui viene emessa la radiazione più vecchia è l'informazione che ci arriva e detto questo entriamo un po' nel vivo della mappatura vera e propria quali sono le nostre candele di barioni ho voluto utilizzare questo termine candele perché per due motivi innanzitutto perché è un termine che viene spesso utilizzato in astronomia e il secondo è perché ci dà proprio l'idea del ciò che fa luce nel buio dell'universo e diciamo come contrapposizione rispetto alla materia oscura le nostre candele ne ho citate due ce ne sono ce ne sono varie ma la più forse nota e più sono le stelle che osserviamo nel nostro caso concentrate nelle galassie di cui potete vedere una foto sulla sinistra una foto vera che emettono luce visibile quindi la luce a cui siamo abituati e ne ho citato un altro poi capirete anche il perché l'idrogeno neutro chiamato anche H1 dal suo nome scientifico che costituisce la maggior parte della componente fredda del mezzo intergalattico non l'ho detto ma il mezzo intergalattico è una miscela di gas freddo e caldo e della parte fredda la maggior parte è idrogeno neutro ed è anche presente dentro le galassie quindi è un ottimo tracciante della struttura che vogliamo mappare perché è sia dentro che fuori dalle galassie si può osservare dalla terra cosa che può sembrare scontata ma non lo è affatto nel senso che vi sono determinati oggetti astronomici che emettono della radiazione che quando arriva alla nostra atmosfera non riesce a passare attraverso fondamentalmente e quindi siamo costretti a mandare in orbita dei telescopi per poter vedere questa radiazione e inoltre emette un deradio quindi ha una sua propria emissione e assorbe anche luce di altre galassie quindi cosa succede che vi sono delle galassie molto lontane che nel loro percorso che la cui luce nel loro percorso verso di noi verso la terra dove la stiamo osservando incontrano delle nuvole di idrogeno neutro che lasciano un'impronta inequivocabile in questa in questa luce che poi ci arriverà e da questa impronta noi possiamo non solo sapere che c'è idrogeno neutro quindi che tra noi e quella galassia che abbiamo osservato da qualche parte c'è una nuvola di idrogeno neutro ma possiamo sapere anche quanto idrogeno c'è e a che distanza è quindi è veramente ci dice moltissime cose e il motivo per cui mi sta così a cuore è che è un po' il protagonista di quello che sarà il mio lavoro dei prossimi tre anni come vi dicevo prima una controparte molto importante alle osservazioni sono le simulazioni qui vi ho riportato sulla sinistra un'immagine della struttura diciamo di un'ipotetica struttura della materia oscura oggi quindi com'è la struttura della materia oscura come la potremmo osservare oggigiorno se mettesse luce ovviamente e sulla destra invece la corrispettiva il contenuto di idrogeno neutro nella stessa nella stessa regione dell'universo e vedete innanzitutto chiaramente la materia oscura è di più ovviamente questa non l'ho detto ma questa immagine diciamo dove va verso i colori più blu sono zone più vuote quindi vedete chiaramente che l'immagine dell'idrogeno neutro è molto più blu quindi c'è molto più vuoto e un'altra cosa importante che si vede chiaramente è che ve l'ho segnalato con i cerchiettini rossi l'idrogeno neutro si trova principalmente nelle zone più popolate della materia oscura e di conseguenza questo ci permette chiaramente di capire una cosa che quello che noi osserveremo sarà quello sulla destra come ho detto perché dobbiamo osservare barioni che emettono luce ma se conosciamo delle formule matematiche che legano la distribuzione spaziale dell'idrogeno con quella della materia oscura possiamo anche costruire le mappe di cui diciamo ci vogliamo di cui abbiamo parlato fino adesso per farlo come dicevo ci servono delle formule matematiche che sono oggetto che sono oggetto di una fortissima ricerca anche oggigiorno diciamo inoltre come dicevo l'idrogeno neutro è presente anche nelle galassie e si pensa che abbia un impatto molto importante in dieci secondi vi spiego come avviene la formazione delle stelle all'interno delle galassie fondamentalmente le galassie si formano da nubi di gas freddo e quando si formano cominciano a formare stelle rapidamente sulla sinistra vi ho riportato un grafico di sostanzialmente il ritmo che mostra il ritmo con cui si formano le stelle all'interno delle galassie al passare del tempo dopo il Big Bang quindi partendo da sinistra che c'è il Big Bang fino a oggigiorno che sono passati circa 14 miliardi di anni dal Big Bang e vedete chiaramente che inizialmente c'è una salita molto rapida quindi il ritmo aumenta in modo impressionante raggiunge un picco e poi comincia a diminuire e diciamo nelle fasi più recenti da 6-7 miliardi di anni dopo il Big Bang a oggi il ritmo è molto rallentato e questo questo meccanismo è oggetto di grande studio nell'astronomia attuale e si pensa che in questo meccanismo l'idrogeno ne autorobbi ha un impatto importante perché come vedete nello schemino di destra l'idrogeno neutro due atomi di idrogeno neutro formano una molecola di idrogeno molecolare che è poi uno dei componenti fondamentali che forma le stelle quindi chiaramente dall'equilibrio tra la formazione dell'idrogeno molecolare poi l'idrogeno molecolare si può anche rompere e tornare a formare due atomi di idrogeno neutro da questo equilibrio nasce poi il ritmo con cui la galassia può formare le stelle e anche questo è oggetto di grande ricerca nel mondo della ricerca attuale gli strumenti con cui poi effettivamente noi facciamo questa svolgiamo questa attività ve ne ho citati alcuni ce ne sono molti ma diciamo forse i più importanti sono due telescopi che osservano galassie e che fanno proprio questo lavoro di mappatura si chiamano uno DESY in Arizona e l'altro J-PASS in Spagna di quelli che vedete gli anni tra parentesi non sono ancora entrati in funzione l'anno che vedete è l'anno in cui teoricamente dovrebbero entrare in funzione il più l'ho messo per sicurezza perché gli astronomi hanno la brutta abitudine di sottostimare il tempo che ci si mette a costruire uno strumento quindi dall'anno che dichiarano poi passano almeno cinque anni da quando lo strumento entra veramente in funzione però insomma staremo a vedere si e J-PASS mappano galassie cosiddetto Square Kilometer Array o SKA quello che vedete in basso a destra che è un insieme di radiotelescopi ovvero molti paraboloni giganteschi dislocati tra il Sudafrica e l'Australia mapperà l'idrogeno neutro partirà probabilmente attorno al 2030 due telescopi spaziali Euclid e il James Webb Space Telescope serviranno anch'essi per osservare galassie non solo per fare mappature ma per una serie di osservazioni delle galassie che sono quelli in alto a sinistra e inoltre siccome facciamo anche le simulazioni e per fare simulazioni talvolta servono computer molto potenti a volte super computer ho voluto citarne uno per tutti perché ha una curiosità il Mare Nostrum che è a Barcellona e che ho voluto citarlo perché ha vinto un paio di anni fa il premio come super computer più carino del mondo perché è all'interno di una chiesa sconsacrata detto questo per tirare un po' le somme il messaggio che vi voglio trasmettere stasera è il seguente ovvero che stiamo entrando in un'era in cui l'astronomia e l'astrofisica saranno capaci di mappare l'universo veramente fino a grande distanza dalla Terra quindi fino a molto indietro nel tempo sempre più vicino al Big Bang e comprenderne la struttura e l'evoluzione ma per farlo abbiamo bisogno di alcuni ingredienti innanzitutto dobbiamo individuare degli oggetti astronomici che emettono della radiazione che noi possiamo osservare e che tracciano anche la distribuzione di materia oscura che invece non possiamo osservare e che chiaramente è un grande problema una volta individuati questi oggetti dobbiamo osservarli che già non è non è sempre molto molto facile dobbiamo interpretare le osservazioni e dobbiamo poi confrontare i risultati con le predizioni che possiamo fare attraverso formule e simulazioni e in tutto questo lo scopo del mio lavoro nei prossimi tre anni è proprio quello di utilizzare l'idrogeno neutro per capire più a fondo la struttura dell'universo l'evoluzione delle galassie e come essi sono legati tante volte diciamo negli anni passati questi due temi che sono da un lato l'evoluzione delle galassie e dall'altro la struttura dell'universo sono stati trattati come sconnessi tra di loro mentre insomma io e altre persone crediamo che ci sia una forte connessione tra i due quindi insomma staremo a vedere e con questo sperando di non avervi annoiato troppo vi ringrazio se avete domande fatele pure nella sezione D ed R o Q ed A per chi ha la versione in inglese di Zoom bravissimo Francesco allora prima di esatto buttarci sulle domande volevo solo ricordare che potete anche farle a voce se volete interagire appunto con con gli speaker potete farlo semplicemente scrivete voce tra parentesi nelle vostre domande noi vi daremo la possibilità di interagire con con gli speaker quindi non siate troppo timidi e iniziamo con le domande la prima è bella tosta puoi spiegare con parole semplici la forma dell'universo è sferico allora è una domanda bellissima interessantissima probabilmente se sapessi dare una risposta con certezza sarei a Stoccolmo a ritirare il premio Nobel no a parte gli scherzi è un tema molto dibattuto al momento si pensa che il nostro universo sia infinito quindi non ha dei limiti e è un po' complicato spiegare com'è la forma perché la forma evolve con il tempo ma oggigiorno il nostro universo forse può essere una risposta un po' deludente ma è quello che in fisica viene chiamato piatto ovvero non è molto diverso da lo spazio che vediamo attorno a noi è semplicemente infinito ed estremamente grande quello che sta avvenendo che c'è una componente che non ho voluto citare che si chiama energia oscura che allora già di per sé l'universo si sta espandendo e in più c'è una componente di energia dell'universo che si chiama energia oscura su cui sappiamo molto poco ma che provoca un'ulteriore espansione oltre all'espansione dell'universo quindi ecco diciamo che però adesso è simile al nostro simile a quello che vediamo vicino a noi ma estremamente più grande infinito e si sta espandendo spero di aver risposto alla domanda Fabiana chiede se guardare lontano nell'universo vuol dire guardare indietro nel tempo qual è l'oggetto più distante osservato questa è un'altra bellissima domanda l'oggetto più lontano osservato è un oggetto che in realtà non ho citato è un po' complicato si chiama radiazione cosmica di fondo ed è sostanzialmente ad un certo punto l'universo non è stato sempre come lo conosciamo noi in cui possiamo vedere quanto distante vogliamo ma ad un certo punto diciamo o meglio partendo dal Big Bang all'inizio era opaco ovvero era come se ci fosse la nebbia poi ad un certo punto la nebbia è scomparsa e a questo punto quando la nebbia è scomparsa si è generata della radiazione che adesso osserviamo nella banda delle microonde che possiamo osservare tuttora e è intrinsecamente l'oggetto più lontano che possiamo osservare perché se osserviamo lontano e torniamo indietro nel tempo quando noi troviamo questo oggetto successivamente troveremo la nebbia quindi non possiamo vedere attraverso questa specie di muro diciamo perfetto invece in termini di galassie qual è la galassia più o meno insomma fino a dove siamo arrivati a vedere indietro nel tempo allora siamo arrivati molto indietro nel tempo siamo arrivati per i più diciamo ferrati in astronomia siamo arrivati a gli astronomi misurano molto spesso le distanze in termini di di redshift per chi diciamo conosce questo concetto l'oggetto più lontano se non mi sbaglio è a redshift 11 che in termini di in termini di diciamo distanza in termini temporali vuol dire che entro il primo miliardo di anni dopo il big bang adesso non so dire con precisione quando però entro comunque prima del primo miliardo di anni dopo il big bang chiedono dove si trova la nostra galassia nella mappa cosmica questa è una domanda molto interessante diciamo che mappare in generale diciamo che il nostro la nostra galassia la Via Lattea è una galassia che fa parte di un gruppo di altre galassie che prende il nome di gruppo locale è un po' complicato stabilire dove si trova all'interno diciamo che se la domanda è che cosa c'è subito attorno la risposta è per l'appunto sta in un gruppo di altre galassie che si chiama gruppo locale se invece la domanda è se sta in un nodo in un filamento in una parete o in un vuoto rispondere alla domanda è abbastanza complicato perché paradossalmente riusciamo a vedere meglio quello che è distante da noi che non quello che è vicino a noi solo per scoprire diciamo qual è la struttura della nostra galassia che potrebbe sembrare una banalità uno dice va bene osserviamo distantissimo quindi alla fine la struttura della nostra galassia potrebbe non essere così difficile in realtà ci sono voluti decenni non è affatto non è affatto semplice esatto chiedono Alessia la luce più o meno quanto è forte forse quanto è veloce quindi Allora quanto è veloce è veloce per appunto insomma secondo ormai da all'inizio questa è una domanda che insomma nei primi secoli della scienza diciamo da Galilei in poi non era affatto così scontata adesso diciamo che oggigiorno sappiamo che vale attorno a 300 chilometri al secondo ed è l'oggetto è diciamo l'entità nell'universo che si muove più veloce di tutto quanto è forte se invece l'interpretazione della domanda è quanto intensa ci arriva quanto intensa ci arriva dipende da due cose dipende da quanto viene emessa in modo intenso perché ci sono oggetti che emettono luce più intensa e luce meno intensa e anche quanto distante è da noi perché più un oggetto è distante più la luce ci arriva meno intensa quindi diciamo che alla fine l'intensità della luce che ci arriva è una combinazione di quanto viene emessa in modo intenso e anche quanto distante è l'oggetto esatto la Cosmic Web domanda di Andrea è orientata rispetto a quale sistema di riferimento è una bellissima domanda in realtà rispetto a qualunque sistema di riferimento nel senso che l'universo nella nostra comprensione attuale quella che ho mostrato io è ci tengo a precisarlo è una simulazione quindi diciamo non è per forza il nostro universo ci aspettiamo che il nostro universo sia molto molto simile ma non esattamente quello che ho mostrato io una delle proprietà che crediamo che abbia l'universo è che è isotropo quindi sostanzialmente le proprietà sono uguali in tutte le direzioni in cui lo guardiamo quindi comunque noi orientiamo il nostro sistema di riferimento vedremo sempre una Cosmic Web molto simile diciamo ok abbiamo una domanda Alessia chiedeva il Big Bang quanto è grande? questa è una domanda molto interessante anche a cui è molto difficile rispondere nel senso che c'è molta discussione fisica e anche filosofica su che cos'è il Big Bang viene concepito come un'esplosione in realtà sì nessuno lo sa che cos'è esattamente quanto è grande? non saprei dare una risposta nel senso che è sicuramente estremamente diciamo l'universo parte da una condizione di essere estremamente piccolo molto più piccolo della dimensione dell'atomo mettiamola così ok ultima domanda poi hai delle altre domande a cui rispondere allora è possibile che i raggi di luce provenienti dal passato siano entrati in contatto con corpi particolarmente densi che modificando il campo spazio-temporale abbiano allungato il percorso per far giungere la luce a noi alterando il tempo effettivo in cui la luce avrebbe dovuto giungere a noi sì 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 assolutamente sì è possibile in generale come appunto diceva correttamente la domanda secondo le le predizioni della relatività generale quando la luce incontra un corpo che ha molta massa viene deviata nel suo percorso cosa che provoca tra le altre cose fenomeni come per chi insomma lo conosce l'ensing gravitazionale diciamo che in generale quando si parla di distanze astronomiche si parla di distanze estremamente grandi quindi in realtà la deviazione del percorso giustamente sarà un percorso un po' deviato quindi sarà ovviamente un po' più lungo di un percorso dritto ma è comunque una deviazione molto molto piccola cioè la lunghezza del percorso curvo sarà poco poco più grande della lunghezza del percorso dritto diciamo rispetto alla distanza totale che percorre la luce perfetto direi che allora faccio passo il testimone a Gabriele grazie Francesco grazie a voi ti invito a rispondere alle domande che sono rimaste a te grazie molto Laura per aver raccolto tutte queste domande finora e grazie a tutti quelli che hanno partecipato perché insomma abbiamo visto una partecipazione veramente intensa anche le domande veramente interessanti significa che insomma abbiamo attirato la vostra attenzione chiamo chiamo tra noi Luca Malavolta e Paolo Cassata accendetevi eccoci qua Paolo fate più vicino così ti vediamo ecco di se no lo sfondo ti taglia i capelli e ti fa apparire pelato come me invece c'è la luce fortunatamente se li hai ancora tutti allora siccome io e Laura adesso abbiamo altre dirette lasciamo a voi il testimone e ringraziamo ancora tutti e vi ascolteremo in diretta su YouTube a voi Paolo e Luca ciao grazie ciao adesso appunto prendiamo noi il testimone quindi io farò da da cerimoniere e invece Luca si occuperà anche si occuperà di delle domande quindi adesso il prossimo speaker è Giovanni Giovanni Munaretto quindi Giovanni ti invito a condividere il tuo schermo e accendere il microfono Sara è Sara no Sara Rastello è Sara Rastello è Sara Rastello è Sara Rastello sì certo era quello delle 18 Sara Rastello certo scusate intanto Sara è l'unica postdoc credo di questa serata tutti gli altri sono studenti di dottorato si è laureata a Bologna ha fatto il dottorato a Roma quindi soltanto recentemente che è arrivata qui a Padova si occupa di simulazioni dinamiche di stelle e buchi neri e ci spiegherà lei credo che cosa voglia dire tutto ciò le piace la fotografia suonare il pianoforte dipingere e ama il mare vediamo se riusciamo a vederla ciao ti sentite ora mi vedete vediamo adesso io mi muto e spengo il video e ti lascio la parola ok perfetto grazie allora sì scusate un secondo sposto zoom eccoci qua perfetto grazie Paolo dell'introduzione dunque questa sera vi parlerò appunto di waltzer di buchi neri a tempo di onde gravitazionali io lavoro un assegno di ricerca al dipartimento di fisica e astronomia qua a Padova e mi occupo diciamo non direttamente di onde gravitazionali ma in particolare delle sorgenti che hanno prodotto le onde gravitazionali proprio di buchi neri quindi innanzitutto vediamo che la prima scoperta la prima osservazione di onde gravitazionali è avvenuta appunto il 14 settembre del 2015 per la prima volta in assoluto l'interferometro LIGO in America è stato in grado di osservare appunto le onde gravitazionali che erano già state predette nel circa cento anni prima nel 1915 dalla teoria della relatività di Einstein e le onde gravitazionali non sono altro che perturbazioni dello spazio-tempo dovute a oggetti estremamente densi in particolare se consideriamo che lo spazio-tempo sia ad esempio una sorta di telo di lenzuolo e abbiamo un oggetto estremamente massiccio che ha la capacità di deformare questo lenzuolo a causa appunto del fatto che è molto massiccio e di conseguenza abbiamo proprio la stessa deformazione nello spazio-tempo che si traduce in queste onde gravitazionali quindi la massa curva o meglio deforma lo spazio-tempo in particolare se il corpo massiccio si muove allo stesso modo la deformazione dello spazio-tempo si muove e si propaga come se fosse un'onda ora il il segnale che è stato che è stato prodotto dal il segnale di onde gravitazionali che è stato osservato per la prima volta appunto nel 2015 è stato prodotto in particolare dalla coalescenza o meglio dalla fusione di due buchi neri massicci appunto come potete vedere in questa animazione che si sono fusi e hanno formato quindi un buco nero di massa data dalla somma delle masse dei due buchi neri iniziali ora i buchi neri che cosa sono dunque i buchi neri sono corpi celesti risultati dal collasso di una stella massiccia alla fine della sua vita per stella massiccia noi intendiamo una stella che ha una massa circa una ventina 25 volte più grande del nostro sole ad esempio e queste stelle una volta che appunto evolvono e una volta che esauriscono tutto il loro combustibile quindi bruciano tutti gli elementi dall'idrogeno all'elio metalli più pesanti fino al ferro alla fine collassano su la stella collassa su se stessa ed esplode in quella che viene chiamata esplosione di supernova che avete già visto in uno dei precedenti talk quello che rimane dall'esplosione di supernova è appunto un buco nero cioè un oggetto estremamente compatto che ha una massa che può variare diciamo da tre poche masse solari a anche centinaia di masse solari ovvero cento volte più massiccio del nostro sole e invece per quanto riguarda il raggio questi buchi neri possono avere raggi che variano diciamo da una decina di chilometri addirittura 300 chilometri quindi ad esempio noi potremmo tranquillamente avere un buco nero ospitato all'interno della città di Padova diciamo un buco nero abbastanza piccolo e vi ricordo che sto parlando di buchi neri stellari quindi sono diversi dai buchi neri che sono ospitati nelle zone centrali delle galassie quelli sono chiamati buchi neri supermassicci quelli di cui mi occupo io fondamentalmente sono chiamati buchi neri stellari ora abbiamo capito che cosa sono i buchi neri torniamo alle nostre onde gravitazionali bene chi ha prodotto quel segnale osservato da l'aigo o l'interferometro virgo la fusione di due buchi neri quindi abbiamo bisogno di due oggetti in questo caso e quindi abbiamo bisogno di quella che chiamiamo una binaria di buchi neri cioè due oggetti due buchi neri gravitazionalmente legati che producono appunto onde gravitazionali ora esistono due tipi di binarie di buchi neri il primo tipo è quello che noi chiamiamo una binaria primordiale primordiale nel senso che semplicemente abbiamo due stelle massicce che nascono e vivono sempre insieme quindi loro sono gravitazionalmente legate per tutta la durata della loro vita quindi le due stelle massicce evolvono esploderanno entrambe come supernove e lasceranno appunto due buchi neri che sono gravitazionalmente legati in un sistema binario oppure possiamo formare una binaria di buchi neri dinamicamente ovvero tramite interazioni gravitazionali o meglio incontri con altre stelle come ad esempio potete vedere in questo sketch abbiamo tre oggetti che interagiscono in questo caso due buchi neri e una terza stella si legano gravitazionalmente dopo varie interazioni e abbiamo semplicemente il nostro sistema di una binaria di due buchi neri legati gravitazionalmente ora però io vi ho detto appunto che ci servono degli incontri con altre stelle per formare le binarie di buchi neri dal punto di vista dinamico dove troviamo le altre stelle benissimo le altre stelle diciamo che gli ambienti migliori per poter trovare una gran quantità di stelle con una determinata anche densità sono proprio gli ammassi stellari ovvero gruppi di stelle legate gravitazionalmente tra loro che evolvono insieme e interagiscono gravitazionalmente che popolano le galassie ci sono tantissimi ammassi stellari di vario tipo quelli diciamo di cui noi ci occupiamo sono principalmente ammassi stellari giovani sono in generale gli ammassi contengono una quantità incredibile di stelle addirittura fino a un milione di stelle quindi potete capire come quante siano effettivamente le interazioni dinamiche tra le stelle all'interno degli ammassi che sono veramente tantissime e dobbiamo quindi studiare la dinamica di questi oggetti e questi questo si può fare ovviamente ricorrendo al nostro amico Newton e quindi andando a calcolare e studiare le leggi del moto di Newton in particolare la forza di gravità quindi reciproca tra ogni stella rispetto all'altra e quindi dovremmo fare una serie infinita di calcoli calcolare quindi tutte le leggi scusate la forza di gravità che ogni stella sente rispetto all'altra e fare quindi infiniti calcoli questo capite bene è abbastanza complesso soprattutto se parliamo di sistemi veramente con milioni e milioni di stelle per fortuna ci vengono in soccorso i computer in questo caso e in particolare io mi occupo proprio di simulazioni numeriche e quello che facciamo è utilizzare dei codici ovvero diciamo dei programmi dei software che integrano numericamente le equazioni del moto di un sistema di n particelle dove n può andare da poche particelle poche stelle a un milione di stelle che interagiscono sotto l'effetto della mutua forza gravitazionale e quindi noi praticamente possiamo studiare l'evoluzione dinamica di questi sistemi degli ammassi stellari queste simulazioni ad esempio quella che vedete qua che vi assicuro non è matrix ma è una simulazione dinamica con queste quindi possiamo studiare nel dettaglio le interazioni tra le stelle ma dato che appunto il numero di interazioni delle stelle le interazioni sono veramente tante per velocizzare i calcoli solitamente utilizziamo anche appunto super computer come ad esempio quelli del Cineca per poter velocizzare le nostre simulazioni e fare in modo che appunto possiamo fare miliardi di calcoli in tempi umani e ad esempio oltre a questo solitamente vengono utilizzate anche le schede grafiche quelle che sono chiamate GPU non so se appunto c'è qualcuno che usa i videogiochi solitamente sono nate diciamo per accelerare proprio i processori e i computer per quanto riguarda l'uso dei videogiochi ma le utilizziamo anche noi astrofisici sono utilissime per accelerare proprio le simulazioni poter fare una grandissima quantità di calcoli in pochissimo tempo soprattutto se vogliamo simulare ad esempio un ammasso stellare per circa 100 milioni di anni o un miliardo di anni riusciamo a farlo in tempi umani adesso vi faccio vedere qualche esempio questo è il video di una simulazione dinamica appunto di un ammasso stellare abbastanza piccolo dove in questo caso qui vedete l'evoluzione per circa 60 milioni di anni questa simulazione diciamo occorre circa meno di 24 ore per farla e i diversi colori indicano le diverse stelle vedete quante sono le interazioni ogni stella interagisce con le altre a livello gravitazionale se vogliamo vedere nel dettaglio ad esempio uno di questi incontri gravitazionali in questo video fatto da appunto un nostro collega del gruppo di ricerca abbiamo una una tripla fondamentalmente abbiamo tre oggetti che interagiscono gravitazionalmente quello vedete in questo caso abbiamo un buco nero una stella che potrebbe essere tranquillamente il nostro sole o comunque una stella di qualsiasi tipo e una terza stella che in realtà in questo caso era in questa simulazione particolare una stella di neutroni vi darà qualche accenno Filippo nei prossimi talk un altro esempio è questo che riguarda la formazione dinamica di una binaria di buchi neri proprio in questo caso abbiamo una binaria cioè un sistema binario di un buco nero e una stella e un terzo buco nero che arriva e comincia a interagire col sistema quindi anche in questo caso si tratta di possiamo chiamarlo un sistema triplo dove abbiamo vedete tantissime interazioni e a un certo punto quello che si vede è che praticamente la terza stella quella indicata in azzurro viene praticamente buttata fuori dal sistema se avete pazienza eccola buttata fuori abbiamo la nostra binaria di buchi neri che continua nella sua evoluzione oppure un altro esempio di simulazione dinamica sempre di tre oggetti abbiamo una binaria originale o primordiale indicata dalle due orbite grigia e azzurra interagisce con una terza stella quella indicata con l'orbita rossa si rompe in questa interazione si rompe completamente e si forma un nuovo sistema binario fatto dalla stellina diciamo con l'orbita rossa e l'orbita grigia quindi completamente nuovo tutte queste sono interazioni ovviamente dinamiche che possono avvenire in un sistema di più di due oggetti questo è un altro esempio di interazione appunto di una binaria primordiale quella con l'orbita azzurra e grigia che interagisce con una terza stella sempre quella con l'orbita indicata in rosso loro orbitano e interagiscono un sacco e poi vedete a un certo punto il sistema si separa però abbiamo che in questo caso sia semplicemente la binaria originale si è slegata e poi comunque la terza stella la singola ha continuato la sua vita da sola mentre la binaria originale è rimasta legata ovviamente c'è stata una modifica per quanto riguarda i parametri fisici e l'orbita soprattutto della binaria questo è l'esempio di una simulazione dove abbiamo appunto la coalescenza di due buchi neri quello che vedete è che i due buchi neri nella binaria quindi piano piano l'orbita della binaria si stringe i due buchi neri si avvicinano sempre di più perché il sistema appunto perde energia emettendo onde gravitazionali ovviamente questa è una simulazione dinamica quindi voi vedete la parte diciamo dinamica del sistema e l'orbita la modifica dell'orbita della binaria di buchi neri non vedete l'emissione di onde gravitazionali quella è diciamo questo è il punto di vista teorico quello è il punto di vista osservativo e quindi diciamo se facessimo una sorta di animazione quello che vedremmo nel caso di coalescenza di due buchi neri sarebbe una cosa di questo tipo che vedete in questo video quindi dal punto di vista osservativo l'aigo e virgo l'interferometro che abbiamo qua in Italia vicino a Pisa ci permettono appunto di osservare le onde gravitazionali e avere informazioni sui segnali mentre con le simulazioni numeriche noi siamo in grado di capire chi ha prodotto quel determinato segnale quelle onde gravitazionali quindi capire informazioni sui buchi neri su come si sono formati e quali sono gli ambienti stellari diciamo più gettonati proprio che possono produrre oggetti compatti appunto come i buchi neri che emettono onde gravitazionali vi lascio l'ultima slide io faccio parte del gruppo di ricerca DemoBlack qua trovate il link al sito web se siete curiosi e volete capire un attimo più in dettaglio di che cosa ci occupiamo questa è la mia mail e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille Sara complimenti per la presentazione abbiamo numerose domande tra cui anche una a voce darei la parola ad Alessia Alessia vuoi fare la domanda vediamo forse sto prendendo qualcosa io allora Alessia sei mutata col microfono quindi dovresti togliere ok ora puoi parlare no credo ci sia qualche problema adesso faccio io la domanda al tuo posto va bene allora Alessia ha chiesto è possibile che avvenga un'esplosione e che noi la possiamo vedere solo dopo un po' di tempo successivo esplosione tipo quella di supernova sì io immagino nella nella coalescenza di buchi neri nella coalescenza di buchi neri sì sì assolutamente quando parliamo ad esempio appunto delle onde gravitazionali del primo segnale forse avevo qualche informazione quello del 2015 è un segnale che a noi è arrivato appunto dopo molti anni in realtà è appunto qualcosa è un evento che è avvenuto più di un miliardo di anni fa e proprio perché è un evento molto distante che è giunto fino a noi dopo tanto tempo circa appunto come distanza un miliardo di anni luce ovviamente quindi assolutamente sì in generale tutti gli eventi che sono stati rilevati fino ad oggi che sono veramente tanti io qui avevo messo ecco un'altra slide so se la vedete diciamo nel 2015 il primo segnale di onde gravitazionali è stato proprio il primo fantastico per la prima volta siamo stati in grado di sentirle o meglio vederle o osservarle da quel momento grazie appunto agli interferometri e alla tecnologia siamo riusciti ad avere una gran quantità di dati quindi nuove onde gravitazionali nuove coalescenze di buchi neri questa è più o meno la mappa aggiornata circa un mese fa e riguardano tutti oggetti tutti eventi molto lontano da noi assolutamente quindi anche lontano nel tempo ok ora c'è una domanda un po' particolare che sono votata ti chiedo ciao questi codici per la dinamica sono compatibili ad esempio con microsoft excel posso farli anche io a casa anche se più lente allora sì dipende diciamo dal tipo di codice ovviamente questi tipo questi codici che utilizziamo possono essere rannati anche semplicemente con una sola cpu quindi volendo a volte io stessa col mio laptop posso rannare lanciare diciamo una simulazione l'unico problema è che se ha una simulazione molto consistente andrà molto più lenta quindi se io ad esempio per simulare un ammasso stellare per circa 100 milioni d'anni su un computer un super computer ci metto un'ora utilizzando magari appunto molte core molti cpu o addirittura le gpu sul mio laptop magari ci mette una settimana un mese quindi diciamo l'architettura del computer che si utilizza è molto importante per quanto riguarda la velocità della simulazione però diciamo che in base ci sono codici che vengono supportati anche da semplicemente con un single core questi codici sono scritti in un linguaggio di programmazione specifico sono di vario tipo allora solitamente quelli più vecchi magari sono in fortran quelli più recenti in c++ qualcosina in python ma non è tanto diffuso i codici principalmente diciamo il codice che utilizzo io che è un codice pubblico se siete curiosi si chiama embody 6 plus plus vuol dire embody 6 più più gpu lo trovate basta andare su google è un codice che in realtà è scritto utilizzando tre linguaggi di programmazione combinati tra loro infatti diciamo che è un ibrido perché è scritto in c++ fortran e una parte che riguarda appunto le gpu cioè le schede grafiche di cui vi parlavo prima che è un altro tipo di linguaggio completamente che si chiama CUDA diciamo è abbastanza un codice è un codice abbastanza complesso però diciamo appunto ha le caratteristiche di essere in grado di simulare quasi un milione di stelle l'interazione tra un milione di stelle in una maniera veramente veramente dettagliata comunque possiamo escludere Microsoft Excel come chiesto nella domanda diciamo ah sì scusa allora qui c'è una domanda un po' tecnica che è stata molto votata anche se in realtà hai anche risposto durante la presentazione stessa però ripetere non fa a me male quando due buchi neri si fondono il buco nero risultante ha massa di poco inferiore alla somma dei due dove finisce questa massa può spiegarlo con parole molto semplici grazie praticamente la differenza che si si vede è dovuta all'energia persa per onde gravitazionali semplicemente per quello quindi ad esempio il primo evento di onde gravitazionali del 2015 le masse erano circa un buco nero più massiccio 36 masse solari cioè 36 soli l'altro mi pare 29 la somma quindi il buco nero risultante non era esattamente la somma dei due ma quello che si perdeva erano 0,3 mi sembra della massa totale questo è dovuto proprio all'emissione delle onde gravitazionali quindi la perdita di energia da quel punto di vista ovviamente energia uguale massa quindi quella è la perdita diciamo la differenza la domanda successiva è cosa c'è dentro un buco nero bella domanda allora in realtà il fatto è questo quello che c'è in un buco nero noi non lo possiamo vedere semplicemente perché nemmeno la luce riesce a uscire dal buco nero e viceversa di conseguenza noi lo intendiamo come una sorta di singolarità e sappiamo che appunto c'è un limite la sua oltre il quale la luce non riesce proprio a uscire per questo che noi lo identifichiamo come come nero questa dimensione è identificata come il raggio di Svarshield che dipende appunto dalla massa stessa dell'oggetto quindi del buco nero però appunto noi identificato come nero proprio per il motivo che nemmeno la luce riesce a sfuggire ok domanda successiva abbiamo ancora qualche minuto è possibile che dal collasso di due stelle vicine si generino due buchi neri in cui le singolarità coincidono creando una specie di tunnel che permette alla luce di entrare da un buco nero e uscire dall'altro qua siamo un po' sul sul teorico molto sul teorico sì aspetta mi sono persa un attimo allora abbiamo due stelle molto vicine in una binaria se ho capito bene non riesco a vedere le domande scusate ok se vuoi posso ripeterla è possibile che dal collasso di due stelle vicine si generino due buchi neri quindi due buchi neri vicini immagino in cui le singolarità coincidono ci sarà una una coalescenza creando una specie di tunnel che permette alla luce di entrare da un buco nero uscire dall'altro non saprei mi sembra un po' fantascientifica come come situazione beh possiamo dire che magari lo scopriremo in futuro sì probabilmente il fatto è che comunque dal buco nero in realtà non può uscire proprio niente di niente quindi il passaggio da uno all'altro mi sembra abbastanza complesso il punto fondamentale è comunque che ogni tipo di buco nero neanche la luce non può assolutamente uscire questa è una delle cose più certe che abbiamo ok grazie mille facciamo proprio l'ultimissima domanda ma se dalle supernove si formano anche le nebulose i buchi neri si formano ogni volta che avviene una supernova allora quando abbiamo l'esplosione di supernova e appunto abbiamo una stella massiccia con una massa di circa 25-30 volte più massiccia del nostro sole e abbiamo l'esplosione di supernova di un certo tipo questa lascia appunto quello che è chiamato remnant o il prodotto diciamo di questo oggetto è una stella di neutroni a seconda della massa dell'oggetto progenitore diciamo originale possiamo avere un buco nero o una pulsar scusate una un buco nero o una stella di neutroni come vedete appunto in questo esempio questo dipende dalla massa dell'oggetto iniziale che è appunto scusate dalla massa dell'oggetto iniziale quindi oggetti molto massicci possono produrre entrambe sia la stella di neutroni che la massa del buco nero in base appunto alla massa cioè se è molto massiccia tipo 25 masse solare rispetto 25 volte rispetto alla massa del sole produce un black hole se è meno di 25 volte la massa del sole produrrà ad esempio una stella di neutroni ok grazie mille ci sono molte domande ma purtroppo dobbiamo andare avanti quindi magari potrei rispondere le guarda in chat certo un argomento sulla testa dell'onda potrei dire eccoci la parola a Paolo ciao eccoci grazie Sara interessantissimo intervento puoi continuare a rispondere alle domande finito il tuo intervento a rispondere via chat a chi ha fatto ok grazie e noi passiamo all'intervento successivo che è quello di aspettate un attimo Filippo penso scusate che cerco ok allora c'è Filippo 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 scusate Filippo vediamo se si collega Paolo mi stai chiamando? sì ah ciao ciao tocca a te giusto? ma sei sicuro? aspetta che controllo esatto dovrei esserci io in realtà ecco scusami no infatti hai ragione Michael scusate Michael tocca Michael quindi si collega Michael Michael è un dottorando del terzo anno che si occupa di studiare l'evoluzione delle galassie e nell'universo dall'universo lontano fino a ai giorni nostri gli piace il pianoforte e le spade laser quindi meno male che l'intervento non è di persona ecco ti lascio la parola vediamo poi hai già condivido lo schermo perfetto ti sentiamo e quindi ti lascio la parola perfetto grazie Paolo e buonasera a tutti io sono Michael Romano un dottorando al terzo anno dell'università di Padova e questa sera vi parlerò un po' delle mie ricerche che riguardano per lo più la formazione delle galassie delle prime galassie nell'universo primordiale e gli ultimi vi racconterò un po' degli ultimi risultati scientifici proprio in ambito di formazione ed evoluzione delle galassie che abbiamo ottenuto con uno dei più grandi telescopi al mondo che è il telescopio Alluma prima di tutto però vorrei dirvi che dovete sapere che l'universo non è sempre stato come lo vediamo al giorno d'oggi bensì ha attraversato diverse fasi durante la sua evoluzione e quindi vorrei raccontarvi brevemente la storia del nostro universo per farlo partiremo dai primi istanti di vita dell'universo dove possiamo considerare un universo bambino per così dire fino a giungere al giorno d'oggi dove possiamo considerare l'universo come un uomo di una certa età e quindi secondo ciò che ci dicono gli astronomi l'universo si è generato dal cosiddetto Big Bang dove la materia e la luce erano diciamo legate tra loro in un punto infinitamente piccolo caldo e denso e subito dopo il Big Bang è avvenuto un fenomeno che viene chiamato inflazione per il quale l'universo si è espanso e raffreddato in maniera molto veloce circa tre minuti dopo il Big Bang l'universo si era raffreddato abbastanza da permettere la formazione dei primi elementi più semplici come l'idrogeno l'elio e il litio ma attenzione comunque qui siamo ancora attorno a temperature molto elevate in realtà all'incirca un miliardo di gradi mentre 380 mila anni dopo il Big Bang l'universo si era raffreddato abbastanza adesso siamo a temperature di circa 3000 Kelvin ovvero 2700 gradi e a queste temperature diciamo la luce che prima era legata alla materia riesce a scappare dalla materia ed è in grado finalmente di propagarsi attraverso l'universo a 200 milioni di anni dal Big Bang invece si formano finalmente le prime stelle le prime vere sorgenti di luce dell'universo e bisognerà aspettare altri 800 milioni di anni quindi quando l'universo ha circa un miliardo di anni per la formazione delle prime galassie a questo punto la temperatura dell'universo a causa della sua espansione si è abbassata fino a circa 18 Kelvin che corrispondono a meno 250 gradi Celsius e invece 5 miliardi e mezzo di anni fa è avvenuta la formazione del nostro sistema solare il che ci porta direttamente al giorno d'oggi dove l'universo si stima abbia all'incirca 14 miliardi di anni e la temperatura è arrivata attorno a 2.7 Kelvin quindi meno 270 gradi in realtà però come anticipato da Francesco non riusciamo a vedere completamente la storia del nostro universo bensì riusciamo ad arrivare al massimo a circa 400 mila anni dopo il Big Bang questo perché guardare in tempi diciamo più giovani l'universo è molto difficile per noi sarebbe come guardare all'interno di una fitta nebbia quindi non riusciamo ad andare oltre questo limite ma comunque questa sera vi parlerò di un'epoca molto importante per noi astronomi che è appunto quando l'universo si può considerare un ragazzo aveva circa un miliardo di anni che è appunto l'epoca in cui si sono formate le prime galassie prima di fare ciò vorrei però spiegarvi un po' come noi astronomi siamo in grado di guardare oggetti così distanti da noi e di guardare sostanzialmente indietro nel tempo il nostro viaggio nel tempo si basa su uno dei principi fondamentali per l'astronomia che è il fatto che la luce ha una velocità finita infatti sappiamo che la luce si propaga a circa 300.000 km al secondo ma questo non vuol dire che essa si propaga in maniera istantanea bensì anche lei impiegherà un certo tempo per percorrere una data distanza noi sostanzialmente non ci rendiamo conto di questo fenomeno sulla terra perché la luce percorre delle istanze talmente piccole che sostanzialmente le percorre in maniera quasi istantanea appunto in realtà se ad esempio infatti consideriamo la propagazione diciamo se consideriamo l'accensione di una lampadina infatti noi non ci accorgiamo del raggio di luce che parte dalla lampadina e arriva fino ai nostri occhi bensì la vediamo propagarsi in maniera istantanea in realtà però se conoscessimo la distanza tra noi e la lampadina e conoscendo la velocità della luce possiamo calcolare il tempo impiegato dalla luce per partire dalla lampadina e giungere ai nostri occhi che nel caso ad esempio di una distanza di un metro equivale a 3 miliardesimi di secondo quindi un tempo infinitamente breve in astronomia invece questo fenomeno è molto evidente ad esempio consideriamo la luce che proviene dal sole di nuovo sappiamo che la distanza tra la terra e il sole è di circa 150 milioni di chilometri quindi conoscendo la distanza e la luce la velocità della luce sappiamo che questa impiega circa 8 minuti per arrivare fino al nostro pianeta e quindi quando guardiamo la luce del sole in realtà stiamo guardando la luce che è partita 8 minuti prima dalla nostra stella e ha percorso 150 milioni di chilometri nell'universo per arrivare fino a noi e quindi stiamo in qualche modo guardando indietro nel tempo di 8 minuti vediamo invece adesso quanto impiega la luce per arrivare fino a noi dalla stella più vicina al nostro sistema solare che è Proxima Centauri in questo caso la luce impiega 4.22 anni che sono all'incirca 40 mila miliardi di chilometri se andiamo ancora più distanti troviamo la galassia di Andromeda che è la galassia più grande vicina alla nostra Via Lattea questa vista 2.5 milioni di anni luce che tradotto in chilometri vuol dire 24 miliardi di miliardi di chilometri ma in realtà questa galassia non è nemmeno così distante da noi infatti se riuscissimo a vederla ad occhio nodo nel cielo questa sarebbe grande all'incirca come 6 volte la luna infine l'oggetto più distante osservabile dai nostri telescopi è una galassia che come anticipato si trova a Redshift 11 cioè la sua luce risale a più di un miliardo a poco meno di un miliardo di anni dal Big Bang e questa galassia è chiamata GNZ11 per l'appunto e dista ben 13.4 miliardi di anni di luce da noi questo vuol dire che la luce ha viaggiato per 300.000 miliardi di miliardi di chilometri prima di arrivare a noi e quindi questo è un po' come noi astronomi riusciamo a guardare indietro nel tempo il concetto è che più una galassia o una stella sono distanti e più noi appunto le guardiamo come erano fino a miliardi di anni fa ma ma appunto cos'è che riusciamo a vedere da queste galassie lontane e soprattutto quali sono gli strumenti che utilizziamo per vedere la luce che proviene dalle parti più distanti del nostro universo per rispondere a questa domanda dobbiamo anzitutto dire che ogni oggetto emette della luce che possiamo immaginare diciamo come un'onda che si propaga nello spazio e la luce è caratterizzata da una lunghezza d'onda ovvero da una distanza tra due picchi vicini e questa lunghezza d'onda a sua volta è legata alla frequenza con cui noi vediamo questi picchi di luce e in particolare più piccola la lunghezza d'onda maggiore sarà la frequenza e viceversa il nostro occhio riesce a vedere solamente una piccola parte del cosiddetto spettro elettromagnetico cioè l'insieme di tutte le frequenze e questa parte è chiamata regione del visibile che corrisponde in pratica ai colori dell'arcobaleno mentre tutte le altre frequenze dello spettro elettromagnetico sono invece invisibili ai nostri occhi in particolare si passa si va da a frequenze molto alte con i raggi gamma fino a frequenze più basse passando per i raggi X per l'ultravioletto per l'infrarosso per le microonde e infine si giunge alle onde radio qui in questa diciamo in questa immagine potete vedere come aumenta la dimensione delle lunghezze d'onda partendo dai raggi gamma dove le lunghezze d'onda sono paragonabili ai nuclei atomici fino ad arrivare alle onde radio dove invece le lunghezze d'onda sono paragonabili alle dimensioni di interi palazzi e in astronomia è molto importante osservare un oggetto a diverse lunghezze d'onda perché ogni regione dello spettro elettromagnetico ci dà informazioni sulla composizione ad esempio della galassia che vogliamo studiare infatti le galassie per esempio sono composte da diverse componenti come stelle gas e polvere e ognuna di queste componenti emette ad una diversa lunghezza d'onda qui infatti potete vedere per esempio la galassia di Andromeda vista in diverse regioni dello spettro elettromagnetico ognuna di queste immagini è stata ottenuta con uno strumento specializzato nell'osservazione di un certo intervallo di frequenza o di lunghezze d'onda e quindi ogni strumento in pratica va a vedere una diversa componente della galassia per esempio i raggi X tracciano il gas caldo all'interno delle galassie e ad esempio in questo caso possono essere osservati con telescopi spaziali come per esempio l'XMM Newton nell'ultravioletto invece vediamo l'emissione delle stelle calde e giovani e la presenza di queste stelle un po' è un indicatore di formazione stellare all'interno delle galassie e per esempio può essere questa frequenza può essere osservata con telescopi spaziali come GALAX Nel visibile invece vediamo l'emissione di stelle più grandi e brillanti come per esempio osservato dall'osservatorio nazionale di KITPIC in Arizona e talvolta capita che l'emissione da queste stelle venga assorbita da polvere che circonda queste stelle all'interno della galassia e poi venga riemessa a lunghezze tonda più grandi nell'infrarosso per cui queste frequenze ci permettono un po' di vedere le parti oscurate della galassia che invece non sono visibili per esempio dai telescopi ottici e uno degli strumenti più importanti che ci ha permesso di osservare un po' questa componente oscura dell'universo è il telescopio spaziale Spitzer che è andato in pensione proprio quest'anno infine nel radio possiamo per esempio avere l'emissione di stelle o gas scusate o sì o gas e come vedete in questo caso ci serviamo di telescopi radio come per esempio IRAN in Spagna che al contrario dei telescopi che abbiamo visto prima sono come delle grandi parabole con delle antenne che captano le onde radio e inoltre come avrete visto a seconda della frequenza che vogliamo osservare possiamo avere o dei telescopi spaziali oppure dei telescopi da terra come ad esempio quelli nell'ottico e questo è dovuto al fatto che l'atmosfera terrestre non permette a tutti i segnali provenienti dallo spazio di giungere a terra inosservati bensì blocca sostanzialmente alcune frequenze come quelle dell'infrarosso dell'ultravioletto e dei raggi X e quindi per osservare gli oggetti astronomici a queste frequenze dobbiamo andare al di fuori dell'atmosfera terrestre nello spazio quindi avendo introdotto alcuni degli strumenti che utilizziamo per esplorare l'universo nei suoi diversi colori dello spettro elettromagnetico vorrei invece adesso parlarvi di uno dei telescopi più potenti per l'osservazione dell'universo che è il telescopio ALMA l'Atacama Large Millimeter Array per vedere da vicino ALMA dobbiamo andare fino in Cile nel deserto di Atacama ma qui non troverete un singolo telescopio come per esempio il radiotelescopio IRAM bensì sarebbe più corretto parlare di ALMA riferendoci ad un radiointerferometro cioè a un insieme di radiotelescopi come quelli che potete vedere nell'immagine che lavorano assieme osservando il segnale proveniente dallo spazio e funzionando come un unico grande telescopio ora per capire un po' meglio ALMA vorrei mostrarvi un video in cui ho aggiunto delle scalie che vi aiuteranno un po' a comprendere meglio le immagini quindi buona visione ci vediamo tra due minuti per la visione Grazie a tutti. 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 di noi, a tutti.